Posso dare il bigliettino? Ecco qui. Il microfono è questo. Buongiorno a tutti e benvenuti nell'auditorium del GSE che è ben lieto di ospitare questo evento di AIE, un'associazione importante che da sempre dà importanti contributi per lo sviluppo delle politiche energetiche del nostro Paese. L'evento di oggi si chiama Settore Energetico nel 2023 e prospettive per il 2024. Quindi, Presidente, se mi permetti voglio fare qualche considerazione sull'anno che è passato e appunto sugli scenari, sulle prospettive del 2024. Il 2023 è stato sicuramente caratterizzato fortunatamente da un abbassamento dei prezzi dell'energia rispetto ai picchi da emergenza del 2022. La decrescita sta continuando nelle ultime 5-6 settimane come energia elettrica, siamo sotto i 90 euro a megawattora. Più alto rispetto ai 50 euro degli anni pre-Covid, ma certamente molto di meno rispetto alla media di 303 euro a megawattora del 2022. Il 2023 poi è stato anche caratterizzato, e questo secondo me è un elemento di riflessione, del fatto che l'importazione di energia elettrica dall'estero, che ha sempre visto negli ultimi anni una quota intorno al 13-15%, lo scorso anno questa quota ha raggiunto quasi il 20%. Quindi diciamo che il governo sta mettendo in atto delle policy finalizzate alla riduzione della dipendenza energetica nel nostro Paese, però sul fronte elettrico è importante sottolineare e avere a mente questo aumento sul fronte dell'energia elettrica. È stata rafforzata certamente l'azione a favore della diversificazione delle fonti, degli approvvigionamenti e della sicurezza energetica. Si è agito molto sul permitting per favorire la realizzazione e installazione di rinnovabili e non solo. Devo dire che è stata registrata una crescita significativa sul fronte delle rinnovabili. Siamo passati a quelle elettriche da 1 gigawatt nel 2021 a 3 nel 2022, a quasi 6,5,7 nel 2023. La parte del leone lo scorso anno, legato a questo aumento, l'ha fatto sicuramente la tecnologia fotovoltaica. Ricordo che lo scorso anno sono stati installati più di 370.000 impianti per circa 5 gigawatt solo a pannaggio del fotovoltaico, 1.000 impianti al giorno. Siamo arrivati alla fine dello scorso anno a circa 1.600.000 impianti. Se facciamo conto che negli anni 2000 gli impianti di generazione elettrica erano intorno ai 15.000, tra idroelettrico, termoelettrico, eccetera, siamo veramente a due ordini di grandezza superiori con tutto quello che ne consegue. Prospettive e cosa ci aspetta nel 2024? Dobbiamo mettere a punto, entro giugno di quest'anno, il piano nazionale integrato energia-clima, che è uno strumento di pianificazione al 2030. Non so se entro l'anno, ieri se ne parlava in un altro evento, si potrà rivedere la long-term strategy, che è datata gennaio 2021. Ricordo che sul PNEC, lo scorso lunedì 26 di febbraio, è partita la consultazione pubblica, molto importante. Qualche considerazione sulle FAIR? Innanzitutto, ovviamente l'ospicio che si trovi una quadra tra MASE e conferenza unificata sul tanto atteso decreto aree idonee, che stabilisce regione per regione gli obiettivi al 2030 e gli obiettivi intermedi. Come sapete, c'è in corso da qualche giorno la procedura competitiva, la quattordicesima procedura competitiva del FER1, probabilmente sarà l'ultima asta del FER1. La tredicesima è andata molto bene, oltre un gigawatt è stato oggetto di domande che sono andate in posizione utile, quindi un successo rispetto alle precedenti aste. Certamente consentitemi di dirlo per un approccio sull'istruttoria delle pratiche collaborativo da parte del GSE, ma certamente il successo della tredicesima asta è legato all'adeguamento delle tariffe all'inflazione, adeguamento che ricordo è conseguente a una norma che è stata presentata dal Parlamento qualche tempo fa. Sulle rinnovabili c'è molto a carne al fuoco, perché dopo il decreto ministeriale sulle comunità energetiche, sulle quali tornerò più tardi, sapete che è in gestazione presso il Mase il FERX e il FER2, finanziamento delle tecnologie innovative. Ecco, questi tre strumenti, CER, FERX e FER2, prevedono una contingente di 77 gigawatt, al 2029, metto l'anno ultimo. 77 gigawatt che andrebbe questo a montare, a superare l'obiettivo del PNIEC. Insomma, sul FERX l'obiettivo del Mase, il GSE a supporto è quello di pubblicare la prima asta entro la fine di quest'anno, posto che, come ho detto prima, la quattordicesima del FER1 probabilmente sarà l'ultima, rimangono quasi 700 megawatt di potenza da giudicare. Sulle FER non dimentichiamoci di, oltre ai tre strumenti che ho detto prima, di ricordare che c'è comunque l'agri solare, l'agri voltaico, due linee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Energy Release 2.0, che è stata prevista nel decreto 181, sicurezza energetica. Sulle FER, tre riflessioni veloci. Ritengo che gli alti costi del materiale e del denaro, unitamente a questo ritorno verso il basso decrescente del prezzo dell'energia, è probabile che determineranno da parte degli operatori, almeno nel breve, al ricorso a sistemi con ricavi regolati, piuttosto che al mercato. Dunque le procedure competitive con i contratti per differenza che gestiremo noi. Seconda riflessione sulle comunità energetiche rinnovabili, come sapete il decreto 414 è entrato in vigore il 24 di gennaio, sono state approvate le regole operative il 24 di febbraio, la cassetta degli attrezzi, mi piace definirla così, è quasi pronta, l'8 di aprile il GSE renderà operativi i tre portali, probabilmente ne faremo un quarto non previsto che è un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle misure, sull'ECER cosa voglio dire? È previsto un contingente di 5 gigawatt, che rispetto all'obiettivo del 2030 rappresenta il 7%, è una parte minimale, ma voglio sottolineare che le ECER hanno un'importanza fondamentale per il sistema paese, perché sono un meccanismo che sarà in grado di diffondere nel paese la cultura della sostenibilità, che è assolutamente importante, le ECER stimoleranno cittadini, piccole e medie imprese, anche grandi imprese che possono ricorrere non alle ECER, ma alla configurazione di autoconsumo individuale a distanza e l'autoconsumo collettivo, poi ci sono altri soggetti, enti del terzo settore, enti religiosi, autorità locali, saranno stimolati per essere i protagonisti nella transizione energetica, che è un percorso lungo ma che prevede necessariamente il coinvolgimento di tutti. Le ECER saranno importanti perché introducono una logica dal basso, bottom up, per un utilizzo più consapevole ed efficiente nell'energia e aiuteranno sicuramente a superare, se non altro a contrastare la diffusa sindrome di NIMBI e la mancanza di accettabilità che c'è nel paese da parte degli impianti. La terza e ultima riflessione sulle ECER è che, lo butto lì come elemento di discussione, che tanti impianti siamo arrivati a un milione e sei, quindi un sistema di generazione elettrica distribuita presuppone necessariamente lo sviluppo delle tecnologie principali abilitanti, cioè le reti e i sistemi di accumulo, di cui c'è una presenza significativa. Siamo arrivati alla fine dello scorso anno ad avere quasi 540.000 sistemi di accumulo distribuiti per 3,4 gigawatt di potenza installata. Sapete che entro la fine dell'anno o forse gli inizi del prossimo ci saranno le aste per i sistemi di accumulo distribuiti. Sul sistema energetico c'è sempre più la consapevolezza di mettere al centro questo driver. Il termine Energy Efficiency First sta guidando le politiche energetiche. Nella proposta di aggiornamento del PRIEC ci sono dei capitoli molto importanti sul fronte dell'efficientamento energetico. Nel settore civile c'è in corso tra Mase e MEF degli studi per arrivare a un superamento, fortunatamente dico io, del super bonus che ha lasciato molti disastri nel Paese. Bisogna individuare un nuovo meccanismo che consenta di fare efficientamento energetico nel settore civile. Noi gestiamo i meccanismi dei certificati bianchi e del conto termico che saranno oggetto di una revisione. So che il Mase nelle prossime settimane farà una consultazione pubblica sul conto termico e probabilmente sarà esteso anche al settore terziario. Sull'efficientamento energetico qualche ora fa, qualche giorno fa il governo ha varato il decreto PNRR bis e lì c'è un capitolo molto importante, il piano transizione 5.0, 6,3 miliardi da spendere nel biegno 2024-2025. Anche qua siamo stati ingaggiati dal MIMIT per gestire questa misura. Vi avvio le conclusioni. Un accenno sul gas naturale e green gas. Il gas naturale importiamo, o almeno questo era un dato di un anno fa, il 96%. Ha avuto nell'ultimo bienio una diminuzione dei consumi importanti, siamo passati da 76 miliardi a 62-63 miliardi, una diminuzione significativa per fattori contingenti. Ecco non so se questa diminuzione, guardo Marta Bucci, sarà strutturale perché alcuni fattori che hanno determinato questa diminuzione potrebbero non permanere. Io sono convinto personalmente che il gas sarà da considerarsi una fonte energetica strategica per l'accompagnamento della transizione energetica, per la sicurezza del sistema energetico, per affrontare la non programmabilità delle FER, l'affrancamento del gas lusso è andato bene, bene il riempimento degli stoccaggi. I paesi, gli energivori, si aspettano la gas release 2.0, anche questo prevista dal decreto sicurezza energetica, ma come sapete il TAR del Lazio ha annullato il PTSI e questo inevitabilmente determinerà delle conseguenze sulla operatività di questa misura. Sempre sul gas passiamo al biometano, si continuerà lo sviluppo, noi gestiamo la linea di investimento di sviluppo del biometano per quasi 2 miliardi, sapete che l'obiettivo al 2030 è di produrre 6 miliardi di metri cubi di biometano per la decarbonizzazione del settore industriale, ma anche quella dei trasporti. Sull'idrogeno vedremo quali sviluppi avrà il tavolo di lavoro che è partito al MASE, che definirà la strategia, la consultazione pubblica si è chiusa negli scorsi giorni, era finalizzata per individuare lo schema di decreto per incentivare l'idrogeno. Non dico nulla sulla mobilità sostenibile perché ho rubato troppo tempo, mi avvio le conclusioni, scusate se sono andato ben oltre il saluto facendo alcune considerazioni che comunque dimostrano che il sistema energetico è in continua evoluzione, non ho parlato di CCUS, non ho parlato di nucleare che è presente nel PNIEC, che è oggetto di dibattito, termino davvero il mio intervento ribadendo e confermando la disponibilità del gestore dei servizi energetici, visto il ruolo centrale che ci è stato affidato nello sviluppo sostenibile nel Paese e confermo la massima disponibilità a collaborare con gli stakeholders del Paese a partire ovviamente dalla vostra associazione. Grazie. Grazie per l'attenzione. Molte grazie al Presidente Regoni, anzi continuiamo con i ringraziamenti, grazie a voi, grazie al GSE che per averci ospitato ancora una volta, questa che mi dicono nota come la casa dell'energia, quindi direi un luogo ideale per organizzare il convegno di oggi. Grazie anche per aver fornito un quadro così completo che in pochi minuti credo abbia chiarito il messaggio di quanto sia complesso il nostro sistema energetico, ma neanche della velocità del cambiamento. Mi viene da pensare che io faccio un corso di economia dell'energia all'università di 32 ore e vorrei avere la tua cosa di sintesi, nel senso che in pochi minuti hai descritto egregiamente tutto quello che succede, che è comunque qualcosa di straordinario, non dimentichiamocela di quello che sta, insomma, io ricordo ancora che vent'anni fa quando lavoravo ancora in consulenza ci dicevano che non si poteva avere più del 20% di rinnovabili o veniva giù il mondo, no? E comunque nell'arco di anni, e qui appunto citavi numeri straordinari, no? 5-7 gigawatt in un solo anno, quindi veramente una situazione straordinaria. In tutto questo la nostra associazione si pone proprio come obiettivo quello di aiutare, di partecipare come stakeholder, aiutare nei dibattiti su queste appunto dinamiche complesse, favorire la comunicazione. Mi viene da dire, non solo tra, diciamo così, noi esperti, cioè chi vive di queste cose e chi è appassionato di queste cose, ma credo che per quel che ci riguarda ci sia anche un dovere di comunicare anche ai neofiti, a chi non è esperto, proprio perché è straordinario quello che sta succedendo, ma non è poi così noto ai più, tanto che spesso e volentieri emergono invece delle, non voglio dire sotto termine fake news, ma comunque il dibattito può essere portato nella direzione sbagliata, senza cogliere invece la complessità del momento, ma anche, per una volta, anche dicendo guarda cosa abbiamo combinato fino adesso, nel senso positivo del termine. Ecco, come hai e noi ci poniamo come obiettivo proprio quello di includere nel dibattito e di favorire anche la diffusione dell'informazione su queste queste tematiche. Noi lo diciamo che insomma non abbiamo bisogno che tutti siano economisti dell'energia, noi siamo l'associazione che presidia questo fatto, però tutti noi come consumatori, come cittadini abbiamo il dovere di cercare di capire che cosa sta succedendo perché, tu citato per esempio anche sulle CER, è chiaro che se io non so che cosa sono, come funzionano, avrò tipicamente un istinto di rifiuto. Ecco, quindi noi come AIE ci proponiamo, svolgeremo una serie di attività, a cominciare dai convegni che già conoscete, abbiamo attivato anche una serie di comitati divisi per filiera proprio per affrontare una serie di dibattiti e poi svilupperemo ulteriori attività nei prossimi sei mesi in termini di podcast, di webinar. Diciamo che il messaggio che vogliamo dare qui, perdonate il termine inglese, è We Open for Business, dove non facciamo business ma siamo aperti e chiediamo anche a voi di aiutarci, come posso dire, a continuare lo sviluppo di queste tematiche che sono oggettivamente complesse e quindi abbiamo veramente bisogno di tutti. Mi fermo qui per quelli che riguardano la apertura, scusate, ringrazio, solo un ringraziamento ancora anche oltre al GSE, ai colleghi dell'AIE che vedo qui presenti e ad Anca Servo per aver organizzato e reso possibile il diretto. Quindi un grazie, anzi se posso chiedere un applauso alle persone che hanno reso possibile. Grazie, grazie mille. Bene, io non farò, non sono in grado di fare una relazione così completa e oltretutto siamo fortunati perché oggi abbiamo quelli che le sanno fare molto meglio di me, le persone, quindi chiedo gentilmente, ringraziando ancora una volta il Presidente, chiedo gentilmente di unirsi a me alla dottoressa Rita Pistacchio, responsabile delle rilevazioni e analisi UNEM, poi anche l'Avvocato Edoardo De Luca, direttore generale di Elettricità Futura, l'ingegnere Marta Bucci, direttore generale di Proxigas e il dottor Ciro Rapacciuolo del Centro Studi di Confindustria. Se gentilmente... Posso mettermi qui vicino al... Oh, per me è... Dove preferite? Ecco, così per manovrare meglio la relazione, c'è un pangombrante, ho anche tutte le mie note. Facciamo subito confusione, eh? Ah no, scusa, scusa, prego, prego, volevo solo gentilmente chiedervi se possiamo rimanere dentro, grazie innanzitutto a tutti voi per essere intervenuti qui oggi, vi chiedo la cortesia se possiamo rimanere entro i 20 minuti per ciascun intervento. Lo so che guarda me. No, no, guarda, no, 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 era... Ti conosciamo, era... No, 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 nessun pregiudizio, giuro. Allora comincio subito, innanzitutto ringrazio la AIE e il professor di Castelnuovo per averci invitato a questo consueto evento annuale a cui partecipiamo sempre con piacere e anche per considerarci tra i più... siamo molto rusingati di essere considerati tra i più accreditati analisti del settore ma forse si riferiva ai relatori della tavola rotonda, probabilmente, comunque io cercherò di fare del mio meglio per darvi qualche indicazione su consumi, prezzi che abbiamo registrato nel corso dello scorso anno con qualche highlights sul 2024, ma chiaramente per poter capire, per avere qualche indicazione in più sul 2024 bisogna allargare lo spazio al mercato internazionale, quindi i fondamentali del mercato petrolifero e le quotazioni di egregio e prodotti come stanno andando, come si prospettano perché come stanno andando siamo ancora a inizio anno. Domanda di energia, di recente sono usciti le stime di Enea, noi siamo sulla stessa lunghezza d'onda anche se abbiamo valutato una diminuzione un pochino più ampia, meno 3,5% dopo due anni, questo è il secondo anno veramente che scende, un calo a cui hanno contribuito sia fattori congiunturali come le temperature mitiche e le attività industriali deboli, questo chiaramente ci auspichiamo che sia congiunturale, poi ci dirà Confindustria se è così o meno, ovviamente le politiche monetarie restrittive hanno fatto del loro meglio per frenare un po' tutto quello che era sia i consumi che gli investimenti, quindi sicuramente c'è stato un contesto di mercato poco favorevole. Invece i fattori strutturali che riguardano proprio la domanda di energia sono quelli che abbiamo visto che stanno sicuramente sempre più in atto, sono quelli di efficienza energetica, specialmente negli usi civili con il super bonus. In questo contesto la fonte energetica primaria è tornata a essere il petrolio, anche se in questo caso riteniamo che si tratti di un momento, quindi è un fattore congiunturale, però il fatto stesso che sia la prima fonte energetica, non lo diciamo per autoreferenzialità, ma semplicemente perché bisogna considerare la dimensione di questa fonte che forse sfugge a chi pensa di poterla far uscire dall'offerta energetica così in poco tempo, mentre invece riteniamo che sia molto importante supportarla nella sua transizione verso la decarbonizzazione e verso carburanti sempre più carbon neutral, quindi i fuel che vanno verso la direzione di decarbonizzare e anche questo settore. Ultimissime due cose, abbiamo visto che abbiamo superato il problema a qualche misura della mancanza del gas della Russia, c'è stato il programma di massimizzazione del carbone dell'OC nella produzione termoelettrica, i prezzi come già stato accennato prima sono scesi e quindi hanno favorito le importi di elettricità che sono cresciute di oltre il 19%, possiamo pensare quindi che siano superati i problemi di sicurezza energetica? La mia risposta, se mi consentite, ve la do alla conclusione del mio intervento. Il fatto che i prezzi siano scesi e anche la quantità di energia domandata si è riflessa positivamente sulla fattura energetica, quindi il sborso netto che noi paghiamo per l'approvvigionamento dall'estero delle fonti di energia. Il gas è sceso, scusate, nell'insieme è sceso di 41%, quindi sono oltre 47 miliardi di euro in meno che abbiamo speso nel 2023, soprattutto grazie alla riduzione del gas che è passato da 62 a 28,6 miliardi del sborso netto, calo del circa il 15% delle importazioni, 10% dei consumi in meno e anche delle quotazioni che sono scese del 47%. Il petrolio è sceso anche lui ma un pochino meno anche perché è aumentato di meno rispetto al boom che ha fatto il gas e l'elettricità l'anno scorso, quindi una riduzione stimata su 4,5 miliardi, 14% in meno. La nostra produzione nazionale è stata citata prima, la nostra produzione di oil and gas ci ha consentito di risparmiare l'anno scorso oltre 4 miliardi, noi la stimiamo 1,8 in meno per il gas e 2 miliardi e mezzo in meno per l'oil, quindi quanto abbiamo prodotto valorizzato a quello che era il prezzo delle quotazioni dell'anno. Domanda petrolifera, nel grafo di sinistra vedete gli andamenti mensili, quindi la riga blu quella del 2019 è ante Covid, la riga rossa è il crollo del Covid, le due linee tratteggiate sono questi ultimi due anni, 22 e 23, ecco il 23 che è la rina marroncina, non so se la vedete, solo a marzo è riuscita a superare il 2019, poi è stata sempre più fiacca, in termini cumulativi in termini di anno, quindi grafici alla vostra destra, gli istogrammi a destra, vi mostrano che quest'anno siamo sui 57,4 milioni di tonnellate di petrolio consumate quest'anno in Italia contro i 58,3 dell'anno scorso, quindi se osserviamo un po' l'andamento di questi istogrammi, dopo il crollo di quasi 10 milioni di tonnellate in meno del Covid, abbiamo fatto un recupero di 5 e poi di 2,8 milioni di tonnellate, quest'anno meno 0,9, sta succedendo qualcosa anche nel settore petrolifero, che cosa lo vediamo un attimo insieme, partiamo dai carburanti che sono quelli che se noi osserviamo la dinamica che hanno avuto in questi ultimi tre anni, riflettono proprio la nostra mobilità, quello che è successo poi, riflettono molto bene come si è mossa l'economia, perché nel 2021 vedete il recupero di 4 milioni e mezzo di benzina e gas, c'è stato questo slancio della ripresa della crescita economica, perché anche il PIL ovviamente ha subito l'effetto del Covid, quindi il boom delle costruzioni col super bonus, la mobilità collettiva purtroppo è stata penalizzata dalla pandemia, perché si preferiva sicuramente utilizzare mezzi privati più salubi, tra virgolette, per evitare i contagi, e più la voglia di viaggiare che era stata compressa c'era, ma non si poteva andare oltre confine, quindi sicuramente il turismo era quello di vicinanza, sì, infatti i borghi italiani in quel frattempo hanno avuto una grande pubblicità. 2022 vedete che si è tornato, si è arrivato addirittura a mezzo milione in più dei livelli del 2019, siamo quasi a 32 milioni di tonnellate contro i 31 del 2019, che c'è stato, oltre ai fattori dell'anno precedente, c'è stato anche un fattore prezzi che in qualche misura ha favorito l'uso dei carburanti, perché se vi ricordate le accise sono state ridimensionate e quindi rispetto agli altri paesi i nostri carburanti a questo punto erano diventati più attrattivi, perché erano più economici da noi, quindi c'è stato quell'effetto che noi chiamiamo turismo del pieno dai paesi limitrofi. Non solo, ma siccome i prezzi del gas per autotrazione erano arrivati a livelli stratosferici, principalmente tre volte rispetto ai prezzi che avevano prima del 2022, c'è stato anche uno switch dove possibili dei veicoli bifuel dal metano a metano GNL verso benzina e gasolio a causa degli aumenti dei prezzi del gas e come sapete sono derivati dall'invasione ucraina. Il 2023 invece, lo vedete, è piuttosto fiacco perché siamo a 31,4 quindi già abbiamo perso 200.000 tonnellate, che è successo nel 2023 ve lo illustro suddividendo le dinamiche dei due carburanti, perché abbiamo che da una parte è tornata a esplodere la voglia di viaggiare in aereo, quindi si usa meno la macchina, si va più lontano, si prende l'aereo, considerate che il jet fuel l'anno scorso ha superato nuovamente 4 milioni e mezzo di tonnellate ed è stato l'incremento più elevato tra i vari prodotti petroliferi, più 23,5%, quindi negli ultimi due mesi, lo vedremo dopo, è tornato sopra i livelli del 2019. Dall'altra parte, lo sapete meglio di me, è frenata la produzione industriale, il commercio estero si è indebolito, si è ridimensionato nel super bonus, quindi quella parte di gasolio che viene utilizzato al trasporto merci sicuramente ne ha risentito. Poi il gasolio subisce anche un altro fattore che è quello dello switch degli automobilisti, che lo vedremo poi, che acquistano più ormai auto a benzina che non a gasolio. La benzina vi faccio notare che pur essendo cresciuta meno, vedete negli anni 1 milione e 3, 800 mila tonnellate, 0,3, quindi sto parlando 2021, 2022, 2023, ha ridotto un po' il suo slancio, però è arrivata considerate al livello che aveva dieci anni fa e quindi continua ad essere poi l'alimentazione preferita, come vedremo dopo, dagli acquirenti di auto nuove. Lo vediamo proprio in questa slide. Allora, la riga rossa è il peso percentuale delle auto acquistate a gasolio, la riga blu è il peso percentuale della benzina, il grafico invece a destra vi esprime queste percentuali con aree sovrapposte. Ecco, se noi partiamo dall'area sopra a quella bianca, in genere è quella su cui fanno un pochino più leva poi tutte le varie incentivi e le varie politiche per sganciare gli automobilisti dall'alimentazione tradizionale, sono le altre alimentazioni. Vedete che nel corso dell'anno, qui lo vedete elencato nel grafico di sinistra, ci sono state già una serie di incentivi che sono stati dati alle altre alimentazioni, quindi negli ultimi vent'anni c'è stata una crescita, guardate, ai primi anni 2000 era praticamente tutto benzina e gasolio, poi dopo nel 2009 siamo arrivati al, oltre il 20%, poco oltre il 20% delle altre alimentazioni, GPL, metano e elettriche. Poi questa percentuale si è andata affievolendo. A mio avviso, quindi sto esprimendo un'opinione personale, è perché quando effettivamente c'è un'innovazione tecnologica tale da arrivare ad accogliere quelle che sono le esigenze degli automobilisti, allora effettivamente tu hai, cioè se hai un salto tecnologico che è disponibile per tutti a prezzi bassi, che è successo per esempio nel, col gasolio, col gasolio, col fatto di passare dai motori che se vi ricordate quando erano giovani, no, erano pesanti, lenti, a motori più piccoli, scattanti, brillanti, hanno dato una vita al gasolio che il gasolio è esploso, per 15 anni è stato praticamente il dominio del mercato delle auto nuove. Quindi diciamo per il momento la visione che noi abbiamo adesso di come si sta evolvendo, non so perché c'è solamente la slide, ecco perfetto, vi faccio tornare un attimo sulla slide quella di destra con le aree, vedete che la parte blu più forte e la parte sopra rossa più forte, quella è la parte dell'ibridizzazione, quindi la parte di queste alimentazioni che sono sempre più elettrificate, perché il fenomeno che sta avvenendo nelle alimentazioni delle macchine nuove è proprio quello di andare verso un maggiore uso di elettricità per muovere il veicolo, non solo ma anche una maggiore, io direi, spinta verso i bio, perché la benzina di gasolio che usiamo adesso ha una percentuale di bio crescente che è passata dall'1% del 2007 all'11% già dell'anno scorso e queste percentuali di bio tenderanno a crescere in modo significativo da qui al 2030. Quindi questa è una prima vision che vi do del parco auto. Secondo elemento, l'usato, guardate, il mercato dell'usato è molto più ampio rispetto a quello del nuovo, il nuovo è un milione e mezzo di macchine nuove su 40 milioni che ne circolano, quindi diciamo questo input di novità è comunque un segmento di come si muove questo parco. L'altro segmento forte è il mercato dell'usato, ebbene se noi togliamo, sono 5 milioni di macchine nel 2023 sono state, se noi togliamo le minivolture che sono le vendite a un veicolo, le concessionarie dei venditori di mezzi usati, quindi vediamo quante macchine si scambiano tra le persone che vogliono cambiare la macchina, sono 2 milioni e 8, quindi quasi il doppio di quello che viene acquistato e usato. Quindi c'è una forte spinta ancora del mercato che non va verso altre tipologie di veicoli. E che cosa scelgono questi acquirenti di auto usate? Per la maggior parte del percento, 47,5% secondo i dati in Rai, il gasolio. Quindi c'è una preferenza verso quelle tipologie di alimentazione che continuano a dare efficienza e economicità necessarie per le proprie attività anche lavorative. Ultimo aspetto che vi faccio notare di come si sta muovendo il parco auto, il trend delle immatricolazioni e delle radiazioni. Immatricolazioni, vi ho detto sopra, sono un milione e mezzo, sono tornate un pochino a salire, questi ultimi due anni sono stati veramente critici per l'acquisto di nuove auto, ma vedete che sono a livello molto basso rispetto a quanto facevamo in passato. Quindi questo parco stenta ad avere flussi nuovi di macchine, non solo, ma le radiazioni è quello che preoccupa di più, perché le radiazioni sono scese al minimo storico, cioè sono sotto a un milione. Prosegue quello che un industriale in confine industria ha definito effetto Cuba, non si comprano le auto elettriche perché costano troppo, non si comprano quelle a motore ICE perché poi può crollare il loro valore a breve, ma teniamo la nostra vecchia auto, andiamo avanti con quella fin tanto che ci si orienta meglio sul mercato. Quindi questo parco diventa sempre più vecchio e sempre più numeroso. Detto ciò, gli altri due prodotti chiave tra i nostri, i jet fuel, questo sta come dico io riprendendo il volo, nel senso che la riga blu, i volumi del 2019, riga rossa al crollo del 2020, le altre righe che vedete rosse tratteggiate sopra sono 2021, 22 e 23. Vedete che ci sono voluti tre anni addirittura per arrivare solo negli ultimi due a ritoccare i livelli precedenti. Quindi il jet fuel che è stato uno dei segmenti di prodotti più colpiti sicuramente sta comunque riprendendo una via di normalità. Quello che invece ci preoccupa di più è la petrolchimica, perché la petrolchimica considerate che ha continuato a crescere anche dopo il Covid, era arrivata a 4 milioni e 4 di tonnellate anno e poi negli ultimi due anni, quindi 2022 e 2023, prima è crollato per la modifica delle materie prime di alcune realtà industriali e la seconda, che è l'anno che nel 2023 ci preoccupa di più, è che praticamente c'è stata una concorrenza cinese che ha penalizzato i prodotti di questa industria, quindi c'è un effetto anche di competitività che viene meno per questo tipo di attività. La cosa che mi sembra di interesse poi per chiudere il discorso dei prodotti è questa analisi che hanno fatto i dottori fruzzetti europei di Banca d'Italia e che ci hanno concesso di anticiparvi, ebbene se voi vedete la riga scura nera è la produzione industriale italiana come si è mossa negli ultimi 5 anni. Le righe gialle e rosse sono le variazioni di elettricità e gas che in genere erano storicamente usate come variabili di riferimento per la componente ciclica della produzione industriale. Ebbene, negli ultimi due anni, dal 2022, praticamente sono andate le variazioni di elettricità e gas che non riuscivano più a segnalare i movimenti effettivi dell'industria. Ci sono riusciti molto meglio i lubrificanti, quindi quei prodotti che entrano molto nelle nostre attività produttive, specialmente i lubrificanti industriali, come vedete dalle righe verdi e azzurro più chiaro, sono stati in grado di essere degli ottimi anticipatori dal punto di vista della svolta della produzione industriale, quindi sono stati gli unici nel 2023 che hanno anticipato il punto di svolta e quindi a indicare l'indebolimento che c'era nel comparto industriale del nostro Paese, nel settore industriale populativo del nostro Paese. Allora, attività petrolifera, questo bilancio non ve lo spiego, vi faccio soltanto notare due cose, allora i consumi sono scesi, sono ridotti all'1,4%, però in compensa hanno tenuto l'esportazione con più 0,5%, quindi queste esportazioni hanno contribuito con circa 20 miliardi di euro alla nostra bilancia commerciale estera per quanto riguarda i prodotti raffinati, biofuel per circa 1,8 miliardi. Le lavorazioni nelle raffinerie quest'anno, lo scorso anno hanno un pochino rallentato, sono al 75% e sono 3 punti percentuali sotto il livello che avevano il 2019, siamo 9 punti percentuali sotto a quello medio dei Paesi Ocse. Ecco, questo noi riteniamo che sia un comparto strategico delle industrie del nostro Paese e che ovviamente soffre delle incertezze sul futuro dei carburanti liquidi, visto che la normativa comunitaria comunque è disabilitante e rischia anche di vanificare poi gli investimenti sui prodotti carbon neutral che sono già invece in corso e che sono necessari proprio a traguardare la decarbonizzazione valorizzando infrastrutture e competenze industriali del settore. Le importazioni di greggio sono scese del 2%, le prime fonte a Zerba, già in seconda Libia, terza Stati Uniti, quindi abbiamo superato il problema delle mancanze di approvvigionamenti dalla Russia e greggiamento, d'altra parte il nostro settore è passato considerate da 22 Paesi che aveva di provenienza nel 2022 a 27 Paesi diversi, dai 50, neanche 50 tipi di greggio che lavoravano nel 2000, siamo a oltre 79 tipi di greggio. Un elemento che invece voglio segnalarvi di questa situazione sono i volumi transitati dal Corfo Persico, Marrosso e Canale di Suez, quindi diciamo quelle che sono un po' più nell'occhio del ciclone adesso come transiti da quest'area del Medio Oriente, per noi sono avalsi il 17% dei volumi importati di gasolio. Altra cosa è import-export, a import sono scese del 2,8%, le esportazioni come vi ho accennato prima hanno tenuto, la maggior parte dei prodotti che vengono importati sono gasolio, GPL e jet fuel e l'esportazione di gasolio e benzina. Anche qui vi do un segnale che secondo me è ancora più rilevante di quello precedente, che considerate che il 45-50% dei volumi di gasolio importati sono transitati proprio dall'area del Medio Oriente che adesso è nell'occhio del ciclone, quindi diciamo se abbiamo meno difficoltà con i approvvigionamenti del greggio sicuramente per quanto riguarda i prodotti raffinati potrebbero esserci delle criticità. Prezzi, allora l'anno scorso i quotazioni internazionali dei prodotti si sono raffreddati anche per noi insomma come è stato poi per elettricità e gas, diciamo che sicuramente c'è stata una minore variabilità del delta fra due prodotti che l'anno scorso se vi ricordate hanno avuto dei picchi eccezionali per il gasolio. Ecco diciamo che in quest'ultima parte dell'anno ed è questo che vorrei evidenziarvi perché qui ci sono già anche i dati del 2024, riga rossa quella del gasolio sta scendendo quindi c'è un diciamo un abbassamento delle tensioni sul gasolio mentre invece sta montando per la benzina e vi faccio notare magari non so se l'avete letto che è già la seconda volta che la Russia decide in pochi mesi di fermare le sue esportazioni di prodotti raffinati in questo caso proprio della benzina per qualche mese proprio perché ha difficoltà nella sua raffinazione interna. Noi non importiamo, l'Europa non importa come sapete prodotti raffinati dalla Russia perché l'embargo che è già stato prorogato anche per quest'anno ha escluso questi prodotti dal nostro mercato però questo crea comunque potrebbe creare tensioni perché a livello globale comunque mancheranno dei volumi che venivano precedentemente forniti dalla Russia. I nostri prezzi hanno seguito evidentemente le quotazioni internazionali, prezzi di benzina e gasolio e diciamo a differenza della principale differenza è che dal primo gennaio le accise sono tornate ai loro livelli normali quindi 7,28 euro litro per la benzina, 6,17 per il gasolio e sicuramente c'è stata una tra virgolette normalità anche tra i due prodotti perché adesso la benzina è più valorizzata diciamo rispetto, che costa di più rispetto al gasolio come in passato. Però un elemento che vorrei segnalarvi di questa slide sono gli histogrammi a destra che fanno vedere quanto sono variati i prezzi medi di benzina e gasolio. Ecco la componente industriale che vedete nella parte sotto più scura è scesa proprio rispecchiando quel calo che c'è stato delle quotazioni internazionali mentre la parte altra della fiscalità ha portato ad avere come nel caso della benzina un prezzo più alto rispetto a quello che c'era l'anno scorso. Quindi proprio il ritornare alle accise normali ha prodotto un effetto che ovviamente i consumatori hanno potuto beneficiare di meno diciamo di questa riduzione. Sul gasolio c'è stato invece ancora un po' di vantaggio rispetto all'anno precedente. Ecco se noi volessimo confrontare con l'estero com'è la situazione dei prezzi il nostro delta, questo lo conoscono magari chi più ha dentro a questi dati, deriva soprattutto proprio da questa differente componente fiscale. Considerate che noi abbiamo il 57% e il peso del fisco sulla benzina, il 52% il peso del fisco sul gasolio, il peso del fisco intendo accise più vive ovviamente, mentre invece all'estero stanno 54% la benzina e 48% il gasolio. Quindi se uno volesse dire ma perché da noi costa 1,68€ la benzina mentre all'estero mediamente nei paesi dell'area euro costa 1,8€ e allora il motivo è che ci sono 30 centesimi in meno di prezzo industriale che poi sarebbe, lo rivedete riflesso nell'istogramma alla vostra destra, poi poi ci sono le componenti fiscali che è più alta di 97 centesimi quindi la differenza di prezzo è spiegata da questi due fattori analogamente e inviene per il gasolio. Ultima parte anche perché qui il tempo stringe se no mi tolgono direttamente il microfono, quotazioni e come che aspettiamo per il 2024? Qui diamo lo sguardo, allarghiamo lo sguardo alla parte internazionale, l'anno scorso qui c'entrò di essere molto veloce. Questa è la fotografia che ha fatto la Iena nell'ultimo bollettino di metà febbraio, aspettiamo metà marzo per avere gli aggiornamenti. L'anno scorso c'è stato un boom della domanda, c'è stata una crescita di 2,3 milioni di barili al giorno, sapete che cosa significa? Significa l'equivalente della produzione i due paesi messi insieme, la Nigeria e la Libia. La parte determinante di questa crescita l'hanno fatto ovviamente i paesi non oxe, la parte determinante 3 quarti è stata la Cina, quindi c'è una parte asiatica che risucchia petrolio a tutto volume direi, quindi c'è sicuramente una grande spinta della domanda. Quest'anno la domanda è prevista più in calo, quindi un aumento medio dell'anno di 1,3 milioni di barili al giorno, quindi siamo un pochino più nella media, quindi ci dovrebbero essere meno tensioni da questo punto di vista, sempre con la Cina in testa che assorbirà questo incremento. La parte offerta è, diciamo così, l'anno scorso gli Stati Uniti hanno sostenuto l'offerta con il 76% di quanto è stato messo in più sul mercato, mentre invece i paesi OPEC stanno tentennando. Prima di passare alla slide successiva vi faccio soltanto notare che la grossa differenza tra domanda e offerta c'è stata nel terzo trimestre. Tenetelo a mente perché questo vedrete che influirà sui prezzi, sulle quotazioni. Questo è l'andamento mensile del greggio in questi ultimi due anni. Vedete che da giugno 2022, quando poi sono state emanate le sanzioni che sarebbero state messe in vigore da dicembre per i prodotti e da dicembre per il greggio e per i prodotti dal 5 gennaio, inizialmente c'è stata una grande, il mercato è reagito aumentando i prezzi, aspettandosi chissà cosa, poi appunto grazie all'immissione invece degli Stati Uniti e quindi dal fatto che non ci fosse poi tutta questa mancanza di spiacere, insomma non ci dispiaceva molto che la Russia non fosse presente perché non eravamo in grado di avere il greggio e i prodotti che ci servivano, praticamente durante l'anno le quotazioni sono scese. Il 5 ottobre l'OPEC ha cominciato a fare una delle strategie che sta portando anche adesso, da questi annunci tagliamo la produzione di 2 milioni in barri di giorno da novembre e poi durante il corso dell'anno se vedete in tutte le label che vi ho messo sparse dai vari mesi, annunci continui di cui una sorpresa a Pasqua dell'anno scorso, ai 2 milioni che già ci stanno ne aggiungiamo un altro milione e 100, poi aspetto e ci metto un altro mezzo milione in meno proprio per cercare di sorlevare le quotazioni. Quello che ha impattato di più su questo contesto, se vedete, poi voi economisti lo sapete meglio di me, è il timore della recessione globale, vi ricordo che l'anno scorso nei primi mesi sono state varie banche americane che sono state salvate dal fallimento, quindi il fatto economico ha influenzato anche se volete un po' il fenomeno speculativo che hanno ridotto e quindi l'attacco di Hamas non ha influenzato il greggio, la quotazione del greggio, però l'ha influenzato a settembre in cui ha raggiunto il picco il discorso della mancanza di abbastanza prodotti nel mercato, perché? Perché a settembre per esempio c'è stata una riduzione di offerta per gli uragani degli USA, inondazione in Libia, scorta ai minimi e il primo taglio di esportazioni dalla Russia. Ultimissima cosa, e lo vedete qui, c'è il taglio che vi dicevo prima del secondo taglio che fa la Russia dell'esportazione di benzina e l'ulteriore riunione OPEC che estende anche fino a giugno il loro taglio dei volumi che faranno immessi sul mercato. Vi dico solo che l'Arabia sta ai minimi, insomma più di 9 milioni di bari in giorno non mette da un po' di tempo, cedendo quota ai suoi concorrenti americani poi in qualche misura. Chiudo. Che ci aspettiamo per il 2024? Visto che sicuramente questa situazione del Medio Oriente aggiunge un'ulteriore criticità inaspettata, visto che questi sono dati che non vi commento, ve li lascio, sui giornali in questi giorni siamo presi da aumento di possibili aumenti di noli, aumento della difficoltà negli approvvigionamenti, 10% dei prodotti proliferi raffinati passano lì, l'8% del gas naturale liquefatto, insomma ci sono sicuramente grandi difficoltà, grandi incognite che ci aspettano da questo contesto. Non ultimo anche, sicuramente impatterà sui consumi, sui consumi nostri prodotti petroliferi, perché tutti i buncheraggi che passavano dal mar Mediterraneo adesso prendono altre vie, quindi il porto di Trieste è già meno 25% in meno solamente a gennaio, tre volte in più invece i porti della Spagna. Magari faremo un altro convegno su questo. Quindi chiudo dicendo quindi abbiamo superato i problemi di sicurezza energetica, visto che abbiamo superato i indenni l'anno scorso, i problemi del gas, io direi che non dovremmo mai darla per scontata. Vi ringrazio dell'attenzione, spero di non essermi dilungata troppo e di aver mi dato una questione interessante. Grazie. Grazie mille per la completezza delle informazioni, per gli spunti una breve osservazione, sto pensando che ormai una qualsiasi anche relazione sull'economia dell'energia non può prescindere dai riferimenti di geopolitica. La Russia, il Mar Rosso, le materie prime che arrivano dall'Asia eccetera eccetera. Quindi forse, guardo anche i miei colleghi, dovremmo chiamare la associazione italiana economia dell'energia e della geopolitica, perché fondamentalmente non possiamo più ignorarlo. Grazie ancora e adesso chiedo gentilmente all'avvocato De Luca che ci farà una relazione sulla domanda, la domanda e l'offerta di elettricità di elettricità futura. Grazie. Grazie mille, grazie presidente di Castelnuovo, grazie a Lai e grazie al dottor Di Primio per l'invito. Io mi scuso anticipatamente perché dopo l'intervento dovrò scappare, ma torno per la seconda tavola per moderata dal presidente Bortoni che saluto. L'elettricità futura non ha bisogno di presentazioni. Il mio intervento è facile grazie a quelli che mi hanno preceduto. Il presidente Ariconi ha dato bene il quadro, come le ha detto, un'analisi sintetica e puntuale di quello che è lo scenario energetico in questo momento in Italia e il contesto geopolitico accompagna, è un'ottima premessa per quanto riguarda la presentazione di quello che l'elettricità futura ritiene bisogna fare dal 2024 in poi e cioè accompagnare questa transizione con un piano che porti a una indipendenza, autonomia energetica del Paese. Partiamo da alcuni numeri. Nel 2022 l'energia elettrica rinnovabile ha fatto risparmiare, secondo l'energia elettrica, 521 miliardi nel mondo, 176 miliardi in Europa, 25 miliardi in Italia. Ed è per questo che nel mondo oltre l'80% di nuova potenza elettrica realizzata nel 2022 è rinnovabile. Il piano elettrico presentato da elettricità futura per il 2030 che è coerente con quello che è il riparo Uport punta ad arrivare all'84% di rinnovabili nel mix elettrico. La domanda, noi abbiamo stimato in base anche ai dati terna, che la domanda di energia elettrica crescerà da 306 teravattora nel 2023 a 360. Visto quindi questa crescita della domanda riteniamo possibile arrivare a un'offerta di energia elettrica in particolar modo fornita da impianti a fonte rinnovabili. Questo perché? Perché penso che il presupposto di tutti gli impegni che il Paese sta mettendo è quello di rendere il Paese oltre che indipendente autonomo ma anche competitivo. Quindi fornire, l'obiettivo è fornire alle aziende che producono italiane e ai cittadini l'energia al minor costo possibile. Quindi partendo da questo obiettivo come fare questo? In questo momento sono molte le tecnologie a disposizione ed è importante che tutte vengano sfruttate, però certamente in questo momento la tecnologia garantita dall'impianto a fonte rinnovabile e dal fotovoltaico in particolar modo è quella che permette la produzione di energia a un costo più basso. Il nostro piano presentato dal settore elettrico prevede di arrivare ad aver installato in Italia nel 2030 143 gigawatt che vuol dire quindi da qui al 2030 almeno 12 gigawatt di nuova potenza rinnovabile. Il numero non è un numero impossibile visto che stando qui al GSE può testimoniare che questi numeri sono stati fatti perché questo è il numero di gigawatt che è stato installato dieci anni fa quando c'era all'epoca dei conti energia, quindi stiamo parlando nel 2011-12 a tecnologie forse diverse, quei numeri sono stati fatti. Poi si è arrivato a quella media che ha citato il presidente Arrigoni di 1-2 gigawatt all'anno. C'è stata una crescita come ha ben detto il presidente Arrigoni negli ultimi due anni, nel 2023 sono circa 6 gigawatt installati ma aggiungiamo una piccola nota rispetto a quanto detto che l'80% di quegli impianti sono impianti sotto il megawatt, sono impianti realizzati in base al super bonus, sia nel 2022 che erano 2 gigawatt su 3 gigawatt, quindi abbiamo più dell'80% e sono piccoli impianti. È una cosa positiva certamente perché indica che anche diciamo fra i cittadini si è compreso l'importanza o il vantaggio dell'installazione di piccoli impianti ma ai fini di quello che è la premessa che ci vede sempre tutti immagino d'accordo e raccolti, se è produrre energia a meno costo gli impianti che permettono diciamo in un'ottima di scala di ridurre i costi sono gli impianti utility scale, i grandi impianti e infatti se si paragona gli ultimi due anni quello che ha fatto l'Italia e altri paesi come la Francia, la Germania e la Spagna si vede che la grande differenza è sugli utility scale, paesi come la Germania e Spagna hanno fatto numeri molto più alti rispetto a quelli nostri, quindi questi dati di obiettivi nostri di installazioni sono possibili perché è stato fatto e è chiaro che in un ottimo di equilibrio del sistema è fondamentale anche in contemporanea la realizzazione di 80 gigawattora di accumuli di grande Italia perché altrimenti il sistema non reggerebbe. Questo comporta anche che cosa? Che se si riuscisse a mettere a terra questo piano si tratta di 320 miliardi di investimenti nel settore elettrico prevedendo tutta la sua filiera, una riduzione delle emissioni importante e soprattutto 540 mila nuovi posti di lavoro in più. Questo è importante perché spesso viene additato come la transizione può portare a una perdita di posti di lavoro invece secondo uno studio che noi abbiamo fatto insieme a Enel Foundation e Altesis questo non avviene anzi. Bisogna sfatare il mito che è quello che purtroppo ostacola perché parliamoci chiaro il governo, il Parlamento in questi anni hanno anche fatto uno sforzo di semplificazioni, di interventi a sostegno del settore ma c'è ancora una percezione da parte dei cittadini e non solo che le rinnovabili occupino il territorio in maniera predatoria. I numeri che noi abbiamo detto occuperebbero quei gigawatt in più che dobbiamo installare solo lo 0,2% del territorio. Quindi sicuramente è, secondo noi, ridimensiona quella percezione che c'è nel Paese. Questo è, diciamo, per arrivare a realizzare tutto questo chiaramente c'è bisogno di più elementi che sono quelli che ha citato anche il Presidente Arrigoni. Bisogna ancora lavorare sulle autorizzazioni e sul target regionale. Per quanto riguarda le autorizzazioni noi come elettricità futura riteniamo per il 2024 prioritario l'adozione di un testo unico che non solo deve essere come quello previsto dal PNRR, il testo unico delle rinnovabili, ma pensiamo che debba essere fatto un testo unico di tutte le infrastrutture del settore energetico. Cioè un testo che permetta agli operatori del settore di avere chiaramente norme chiare di facile interpretazione che possano permettere la loro messa a terra. Gli obiettivi, il DM Aredone, potremmo dire che oggi è importante per quello che ha detto il Presidente Arrigoni, per individuare gli obiettivi regionali. Perché per quanto riguarda dei contenuti che abbiamo visto sia nella bozza di decreto dei ministeri che delle osservazioni che hanno fatto le regioni pensiamo che sarebbe meglio non fare il decreto, dire che sono idonee tutte le aree non sottoposte a particolari vincoli e non perdere ulteriore tempo come quello che stiamo perdendo in attesa di un decreto che effettivamente forse è difficile da realizzare perché è difficile da mettere d'accordo tra i ministeri ma soprattutto la sua applicazione dovrà ancora scontare poi il tempo necessario affinché ogni regione adotti la sua legge regionale che individua quelle aree donne. Quindi è ancora lungo il percorso. È importante la disciplina e gli interventi sugli accumuli sul capacity market. È fondamentale che il FERX esca come anche il FER2 il prima possibile. È fondamentale che si intervenga sui PPA. Sono tutti strumenti che sono necessari per poter realizzare il piano che abbiamo detto. Noi pensiamo che questo sia fattibile, ci deve essere la volontà da parte di tutti per poter arrivare a accelerare la transizione e a ridurre i costi per l'energia elettrica. Grazie mille e scusate se mi dovrò sentare però. Grazie mille Elettricità Futura per un quadro, anche questo è un caso così completo, che ci ricorda anche in questa particolare situazione gli straordinari risultati raggiunti anche, effettivamente anch'io non ricordavi, 12 gigawatt all'epoca del decreto Alcoa, che sembrava oggi giorno, però vediamo come stanno crescendo e quindi effettivamente potrebbero essere alla portata. Grazie ancora e adesso cambiamo vettore e passiamo all'ingegnere Marta Bucci, direttore generale di Proxicas. Marta? Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente di Aie per averci coinvolto in realtà per la prima volta in questa occasione come interlocutori di riferimento del settore del gas. Sicuramente il mio compito sarà un po' facilitato dalle relazioni che mi hanno preceduto perché Unem ci ha dato un quadro molto dettagliato di quello che è il bilancio domanda offerta del settore energetico un po' a tutto tondo e il collega di Elettricità Futura ci ha un po' raccontato delle prospettive di evoluzione del settore elettrico in Italia. Io, poiché noi ci occupiamo di gas, la nostra associazione proprio velocemente la presento, nel senso che rappresentiamo sostanzialmente l'industria del gas in Italia, le nostre aziende gestiscono interamente le infrastrutture primarie, quindi il trasporto, lo stoccaggio, la rigassificazione circa il 60% della distribuzione, nonché importano pressoché il 90% del gas che arriva in Italia, quindi sicuramente l'associazione è un osservatorio privilegiato rispetto alle dinamiche, diciamo, non solo del settore gas ma un po' del settore energetico del suo complesso. Io partirò da una prospettiva un pochino più ampia perché quando parliamo di gas, come sapete, il mercato del gas è un mercato globale, quindi quando parliamo di gas dobbiamo un po' guardare a quello che succede a livello globale. Dobbiamo farlo sia per ragionare in termini di salvaguardia della competitività dell'Italia ma anche dell'Europa e dobbiamo farlo anche perché siamo tutti qui impegnati a, diciamo, sostenere il percorso di transizione energetica, un percorso che ovviamente va visto in una dimensione globale, la sfida chiaramente è globale. Quindi partiamo da qui, quali sono un po' i mix energetici delle diverse aree del mondo. La velocità con cui stiamo procedendo è una velocità ovviamente diversa, la prima fonte energetica utilizzata al mondo è il petrolio, continua a essere il petrolio e come ci ha appunto ricordato anche Unem, l'Europa e l'Italia hanno dei mix, diciamo, di consumo chiaramente più virtuosi nel senso che sono più avanti nel processo di transizione energetica. Faccio comunque notare che, diciamo, sia a livello globale ma anche a livello europeo ancora il 13% dei consumi viene soddisfatto dal carbone che sappiamo essere, insomma, una fonte fossile sostituibile nella gran parte, diciamo, delle situazioni con per esempio il gas che chiaramente ha un impatto ambientale molto più contenuto. Se guardiamo al mix energetico utilizzato per produrre energia elettrica, anche qua dobbiamo notare che l'Italia è più virtuosa anche diciamo rispetto all'Europa, l'Italia usa solo per il 9% il carbone, ieri abbiamo sentito il ministro Picchetto impegnarsi e confermare il phase out del carbone al 2025, quindi abbiamo puntato chiaramente più sul gas come combustibile fossile di accompagnamento allo sviluppo delle ferre. Infatti usiamo molto gas in Italia, il nostro è un sistema fondato sul gas. La domanda come sta evolvendo? Accennava il Presidente Arrigoni che in effetti i consumi di gas si sono contratti in questi ultimi anni. Perché si sono contratti? Beh, come risposta innanzitutto alla crisi legata all'interruzione delle forniture russe. Una risposta che è stata molto diciamo sostenuta e indirizzata anche dall'Europa e che ha visto una buona risposta anche in termini di domanda, quindi c'è stato sicuramente un comportamento molto responsabile da parte dei consumatori, soprattutto consumatori residenziali. E quindi cosa abbiamo notato? che dal 2021 al 2023 effettivamente questa contrazione della domanda si è un po' avuta diciamo in maniera pressoché coerente diciamo sia sul mercato europeo che sul mercato italiano. Una contrazione più accentuata se vogliamo soprattutto in Europa sul settore industriale come risposta ad una dinamica di prezzo che chiaramente ha fatto diventare il gas un combustibile meno conveniente rispetto anche ad altri combustibili. Da notare che la contrazione del settore industriale in Europa è stata più accentuata, abbiamo avuto un meno 24% dal 22 quindi il 22 rispetto al 21, mentre in Italia diciamo solo tra virgolette il 14%. Poi chiaramente il collega di Confindustria magari ci dirà di più di come poter interpretare questo dato. Riduzione importante anche sul civile, quindi per un contenimento della domanda, una responsabilizzazione dei clienti ma anche una climatica molto favorevole. Quindi dobbiamo riconoscere che gli ultimi inverni sono stati particolarmente miti e qui insomma un po' anche la domanda che si faceva al Presidente Arrigoni, sarà un calo strutturale questo? Potremmo effettivamente pensare di considerare questa riduzione strutturale anche per i prossimi anni? Il termoelettrico fa diciamo compensa perché un po' il gas, la produzione termoelettrica gas bilancia che cosa? La progressiva penetrazione dell'EFR quindi risente un po' di quello che è l'andamento dell'EFR in generale, quindi dell'idroelettrico per cui quando per esempio l'idroelettrico purtroppo va in crisi per problemi legati anche alla siccità e quindi al cambiamento climatico il gas poi compensa. In Europa è stato influenzato anche dalla riduzione della produzione di nucleare, quindi ha questo ruolo di bilanciamento e quindi anche qua è un po' difficile pensare e prevedere quanto poi gas servirà per tenere insieme il sistema elettrico. I primi mesi del 2024 confermano in effetti questa riduzione tendenzialmente e principalmente legata un po' alla climatica che continua a essere particolarmente emite sicuramente anche l'efficienza energetica sta dando i propri frutti, quindi gli interventi che sono stati messi a terra e poi l'incremento progressivo della generazione da fer e comunque idroelettrica. La domanda quindi è il nostro sistema di approvvigionamento è quindi adeguato rispetto a questa domanda che vediamo oggi e che potremmo vedere nei prossimi anni? Ma il nostro sistema infrastrutturale è un sistema molto diversificato, è un po' un patrimonio diciamo del nostro paese, noi lo ricordiamo sempre perché il paese ha investito in questo sistema infrastrutturale e quindi dobbiamo considerarlo come un patrimonio. Questo sistema così diversificato, noi abbiamo 5 pipe che ci consentono di importare gas dall'estero, quindi è già un sistema molto diversificato, abbiamo 4 terminali in esercizio, quindi il terminale di Panigallia, Piombino, Cavarsere, quindi Rovigo e Livorno. Sapete che ce n'è un altro diciamo in costruzione che è quello di Ravenna, si tratta di un'unità galleggiante. Abbiamo una capacità di stoccaggio, anche questa di assoluto rilievo insieme a quella della Germania è la più significativa in Europa, quindi complessivamente diciamo il nostro sistema è ben strutturato. questo ci ha consentito anche di reagire rispetto all'interruzione delle forniture russe in maniera forse più efficace rispetto ad anche altri paesi. Come abbiamo, siamo riusciti diciamo ad aggiornare il nostro sistema di approvvigionamento, come abbiamo reagito? Abbiamo reagito di fatto sostituendo il gas russo come sapete principalmente dal gas che proviene ad oggi dall'Algeria, abbiamo incrementato le forniture di GNL un po' come ha fatto anche anche l'Europa. L'Europa come vedete ha diciamo aumentato di più rispetto all'Italia le forniture di GNL proprio perché di fatto non aveva altre pipe da poter valorizzare e quindi diciamo c'è questa questa insomma questa differenza che è bene anche anche diciamo notare ed evidenziare. La produzione del nostro pallone di Achille noi nel diciamo nei primi anni 90 riuscivamo a produrre internamente questo è una ovviamente un elemento che rileva i fini della sicurezza e dell'autonomia circa 20 miliardi di metri cubi anno. Questa produzione è andata a decrescere in maniera molto significativa oggi come sapete siamo sotto i 3 miliardi e quindi siamo degli importatori netti diceva il presidente Arrigoni importiamo il 96% di quello che utilizziamo in effetti sì. Questo ci rende effettivamente un po' deboli rispetto anche appunto alla fine degli anni 90 quando la domanda era circa 60 miliardi e 20 erano prodotti internamente quindi un terzo della nostra produzione soddisfaceva diciamo la domanda. Oggi dire ha senso ancora investire nella produzione beh sicuramente va detto questo noi non siamo isolati siamo in un mercato globale servirà il gas nei prossimi anni per sostenere la transizione energetica in generale del diciamo del contesto globale? Assolutamente sì noi dobbiamo augurarci che il gas possa spiazzare il carbone che i consumi di gas possano aumentare perché i consumi energetici nel loro complesso aumenteranno quindi l'investimento in produzione può avere senso a nostro avviso continua a avere senso sia perché dal punto di vista economico avere produzione interna stabilizza diciamo i prezzi ci rende meno esposti a dinamiche esterne ci rende quindi in qualche modo anche più sicuri e poi oggettivamente importare gas come anche stiamo facendo dagli Stati Uniti che è diventato il primo esportatore ha un impatto ambientale che è decisamente molto penalizzante rispetto a quello che è l'impatto ambientale della produzione locale perché perché comunque il gas viene estratto con tecniche diciamo non particolarmente sostenibili viene trasportato con un impatto diciamo in termini di emissioni consistente. L'import GNL si parla tanto del GNL il GNL ha cambiato il mercato del gas il GNL è uno strumento veramente straordinario di flessibilità perché riesce a collegare produttori e consumatori che si trovano in zone del mondo estremamente lontane quindi ha caratterizzato diciamo in questi anni la nuova configurazione del mercato globale gli Stati Uniti hanno giocato stanno giocando un ruolo assolutamente importante proprio vediamo quindi in Europa c'è stato in Europa ma anche in Italia un incremento consistente della importazione GNL che proviene dagli Stati Uniti quindi il mercato è globale il mercato è globale proprio perché di fatto è ormai dal 2022 il gas che si muove tramite GNL ha superato il gas che si muove tramite pipe quindi dobbiamo ragionare e quindi avere come riferimento il prezzo diciamo GNL. L'Italia è stato nel 2022 il quinto importatore al mondo questo ci dice che noi possiamo giocare un ruolo non solo come diciamo potenziali produttori di gas ma anche come grandi importatori e quindi abbiamo anche una responsabilità da questo punto di vista qual è la nostra responsabilità? Beh allora noi dobbiamo cercare di mantenere l'equilibrio della domanda e dell'offerta a livello globale perdonatemi se noi dobbiamo focalizzarci diciamo sull'equilibrio globale ma questo è il nostro mercato quindi la nostra attenzione va al mercato globale un mercato globale che come è stato detto anche dai colleghi ha visto purtroppo delle dinamiche molto complesse negli ultimi anni faccio un'integrazione la prima crisi di prezzo non è diciamo derivata dalla guerra Russia-Ucraina era precedente perché? Perché post Covid c'è stata una ripresa importante della domanda energetica ripresa della domanda che non è stata soddisfatta pienamente perché l'offerta non si era investito nell'offerta e quindi l'offerta di fatto era impreparata. Si è creato un mercato corto quindi prezzi molto alti chiaramente nel momento in cui la Russia ha interrotto le proprie forniture la Russia è il primo esportatore di gas al mondo questa cosa si è aggravata e quindi abbiamo subito purtroppo queste dinamiche veramente molto complesse quindi il 2022 caratterizzato da questi picchi di prezzo davvero ingestibili che hanno purtroppo drenato grosse risorse economiche di tutti gli stati europei per mitigare l'effetto di queste dinamiche sulle bollette e poi abbiamo visto per fortuna diciamo un po' un rallentamento un rilassamento di queste tensioni che hanno portato a un abbassamento dei prezzi e quello che un po' stiamo vivendo oggi che sostanzialmente sono prezzi diciamo abbastanza stabili che oscillano intorno ai 25 euro megawattora sono dal nostro punto di vista dei prezzi che esprimono un buon bilanciamento domanda offerta poi chiaramente se noi andiamo a confrontarli con i prezzi vissuti in epoca covid confrontiamo cose diverse durante il covid non c'era domanda quindi chiaramente quello non può essere un riferimento diciamo rilevante quindi ci sarà da chiederci se poi il 25 possa essere in qualche modo un livello di riferimento ma la domanda più importante è capire come noi come Italia qui abbiamo rappresentato l'Italia ma il discorso analogo vale per l'Europa possiamo resistere a queste dinamiche perché dobbiamo resistere a queste dinamiche perché nel momento in cui appunto i prezzi arrivano a quei livelli di fatto il nostro sistema produttivo ne soffre e qui appunto sentiremo un po' il collega di Confindustria quindi per salvaguardare il nostro sistema produttivo la nostra capacità di spesa e quindi non dover drenare risorse pubbliche per mitigare poi gli effetti di queste bollette dobbiamo interrogarci su come poter diciamo proteggere un po' il nostro mercato rispetto a queste dinamiche e come lo proteggiamo? Beh noi siamo degli importatori netti, l'Europa è un importatore netto però possiamo diversificare, possiamo diversificare quindi ampliare le nostre rotte di approvvigionamento possiamo far sì, diciamo dotarci di un sistema infrastrutturale che ci consenta di cogliere le opportunità di mercato questa è una strada diciamo alla nostra portata questo significa anche investire nelle infrastrutture gas e quindi insomma è un po' questo diciamo alla fine io lo pongo come tema per la discussione perché il punto è questo si andrà sicuramente a progredire nella penetrazione delle rinnovabili avremo un sistema che sarà sempre di più spostato anche sull'elettrificazione dei consumi ma al contempo dobbiamo immaginare, dobbiamo considerare che i prossimi anni vedranno che cosa un contesto geopolitico molto complesso, difficilmente prevedibile una domanda globale difficilmente prevedibile perché la domanda energetica dipenderà da tantissimi fattori dalla velocità di crescita dei paesi in via di sviluppo da fattori sociali, economici, climatici e quindi in questo contesto estremamente variabile noi dobbiamo attrezzarci e quindi per attrezzarci essere più resilienti essere capaci di non fermare la transizione energetica perché il punto è quello nel momento in cui salta l'equilibrio del gas abbiamo prezzi del gas elevati, cresce l'inflazione diventa difficile anche investire nella transizione energetica quindi è veramente un elemento cruciale questo oltre che avere degli effetti ambientali drammatici perché negli ultimi anni i livelli di emissioni globali sono arrivati purtroppo alle stelle abbiamo usato più carbone rispetto al gas proprio perché il carbone era più conveniente quindi tutto questo per dire che cosa dobbiamo aspettarci tornando velocemente all'Italia ci sono delle previsioni di scenario diciamo che danno un po' delle forchette adesso qui abbiamo riportati gli ultimi di Snapterna che tra l'altro sono in fase di aggiornamento è molto difficile capire quale sarà onestamente il livello di domanda quanto potrà scendere perché spostare la domanda dal gas all'elettrico è comunque un percorso complesso, articolato in alcuni casi è fattibile più facilmente in altri casi richiede un accompagnamento e un sostegno diciamo più impegnativo soprattutto ecco nel settore civile che pure è stato citato ma dobbiamo attrezzarci per poter gestire entrambe gli estremi quindi la domanda sarà variabile noi dobbiamo essere capaci di gestire questa variabilità di domanda quindi molto importante è la flessibilità come fare? quindi noi continuiamo a sostenere che sia necessario ancora investire diciamo sviluppare produzione domestica produzione locale mettere in sicurezza il sistema energetico europeo non è ancora in sicurezza non è in sicurezza perché noi dobbiamo riuscire a fare a meno la famosa regola dell'N-1 riuscire a fare a meno di uno o due delle fonti energetiche che ad oggi ci alimentano proprio perché il sistema geopolitico purtroppo è complesso in questo periodo e poi anche cogliere magari l'opportunità del lab energetico del Mediterraneo perché ci vede in una posizione geografica favorevole ad un'opportunità che potremo sfruttare nel contempo siamo impegnati nella transizione energetica quindi dobbiamo rendere sempre più sostenibile l'utilizzo del gas quindi la tecnologia di cattura e stoccaggio della CO2 dal nostro punto di vista è uno strumento prezioso e va sicuramente promosso come pure la produzione di green gas quindi il biometano, il metano sintetico, l'idrogeno che ci consentono di valorizzare anche l'infrastruttura esistente infine siamo impegnati anche in maniera molto cogente nel decarbonizzare le molecole quindi ridurre le emissioni fuggitive un tema che è venuto fuori anche alla COP28 e il flaring che sostanzialmente sono le emissioni in fase di produzione quindi questi sono un po' gli spunti che portiamo a questa riflessione odierna vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio ancora Aie grazie mille alla direttrice di Proxigas grazie ancora una volta per gli spunti interessanti e anche per averci ricordato che la transizione energetica non va fermata e che siamo fondamentalmente da due anni in una nuova fase si parlava prima di cambiamenti congiunturali e strutturali noi riteniamo che sia avvenuto un cambiamento strutturale della transizione energetica alcune cose che sono cambiate non torneranno più indietro un po' perché per i pacchetti che sono stati introdotti e citati più volte Repower Yule, Inflation Reduction dall'altra parte dell'oceano ma proprio anche per il funzionamento stesso degli stessi mercati abbiamo visto quello che sta avvenendo è avvenuto nel GNL e sappiamo che l'Unione Europea da mercato per cosiddetto di bilanciamento è diventato un mercato in competizione con altre regioni del mondo e questa cosa non ci sono segnali che possa cambiare in immediato quindi siamo in una nuova fase molto più complessa con come dicevamo prima una forte dimensione geopolitica ora come diremmo gli inglesi che parlano bene last but not least adesso chiedo gentilmente al dottore che prende il programma al dottore Ciro Rapaciolo del centro studio di Confindustria di darci un inquadramento economico siamo l'associazione dell'economia per cui più che mai benvenuto grazie per essere anche lei grazie dell'invito sarò breve non mi ricordo qualcuno poi dopo 28.000 pagine no, sulla sollecitazione della collega che ringrazio diciamo il nostro obiettivo di centro studio di Confindustria era far vedere di fronte a tutti questi problemi energetici la transizione gli shock del 2021-2022 come ha reagito l'economia italiana quindi lo scenario macro come si è evoluto e questo è un po' il piano della presentazione e vedrete che innanzitutto diciamo di fronte allo shock del 2021-2022 ancora più ampio sui prezzi di energia la maggior parte degli economisti diciamo temeva una recessione recessione che non c'è stata assolutamente in Italia questo è il profilo del PIL quindi ci sono sali dei trimestri con andamento piatto ma anche qualche segno negativo qui vedete indicato che guardando al 2023 il primo trimestre è andato molto bene il secondo invece in altalena ha mostrato un segno negativo ma un segno negativo isolato non c'è stata una vera recessione poi nel terzo e nel quarto trimestre l'Italia ha ripreso quella che si è chiamata per anni la crescita dello 0,2 in questo caso al trimestre che se fosse mantenuta per un anno significherebbe stare intorno allo 0,7-0,8 anno che purtroppo ricordiamo è molto di più di quanto cresceva l'Italia prima del Covid prima degli shock energetici che era una roba molto più vicina a 0,4-0,5 quindi l'economia italiana tutto sommato nonostante tutti questi shock in modo per la verità sorprendente sta andando particolarmente bene perché ricordiamoci poi ci arriviamo ci sono anche altri fattori positivi imponenti che sono al lavoro il PNR sostanzialmente e quindi vado subito agli investimenti gli investimenti erano e qui poi devo dire anche l'Istat è un po' complicato il nostro lavoro perché i dati cambiano tutti i giorni quelli che vedete in queste slide sei giorni fa erano completamente diversi per le stesse identiche variabili ci sono delle revisioni importanti non è un problema italiano è un problema che la statistica economica fa fatica a tenere il passo con la realtà che cambia in modo clamoroso io mi associo al fatto che i cambiamenti oramai sono strutturali quindi le tecniche di correzione dei dati che si usavano fino a 3-4 anni fa estese a questo periodo di nuova economia creano volatilità non creano errori ma sicuramente volatilità quindi fatta questa premessa l'andamento degli investimenti è sicuramente abbastanza a luce e ombre cioè veniamo da un 2021 2022 quindi in pieno shock dell'energia delle altre commodity in cui gli investimenti italiani hanno avuto un andamento strabiliante più 20 più 10% all'anno in aggregato la gran parte è stata nel settore delle costruzioni per il super bonus adesso il 2000 non si sente? togliamo sembrava vicinissimo nel 2023 vedete indicato lì siamo in una quello che va considerato un forte rallentamento rispetto al boom nel 2021 2022 ma invece in prospettiva storica è un dato ancora molto positivo per l'Italia quindi una crescita ulteriore degli investimenti di un altro 5% circa quindi da questo punto di vista è più luce che ombre ombre perché c'eravamo abituati molto bene l'anno scorso quindi rallentiamo ma continuiamo a crescere tantissimo se uno guarda gli indicatori diciamo tra tutte queste linee quella nera vi segnalo che tra le varie determinanti degli investimenti il credito che è andato molto male quella linea nera fino a qualche mese fa sta adesso continuando a diminuire però a un ritmo più contenuto quindi si intravede addirittura una fase di espansione una spinta ulteriore che può avvenire secondo noi nella seconda metà del 2024 quando si incroceranno alcuni fattori positivi sono tre questo del del credito sicuramente anche c'è l'attesa di un taglio dei tassi da parte della BCE che come vedremo più avanti si è un po' spostata però dovrebbe verificarsi nei prossimi mesi probabilmente a maggio quindi inizia il ciclo di riduzione dei tassi che spingerà gli investimenti e anche i consumi e poi c'è l'attuazione del PNR sul PNR si fa grande confusione girano diciamo versioni opinioni completamente opposte cioè che il PNR sta spingendo tantissimo del PNR o viceversa che non si sta più facendo il PNR la verità probabilmente sta nel mezzo e i dati per il 2023 fanno vedere che abbiamo realizzato una buona parte degli investimenti previsti e delle riforme previste sulla carta tutte nella realtà probabilmente un po' più della metà ma il vero dubbio è sul 2024 sono stati quello che è successo davvero davvero un parolone quello che sembra che sia successo è che la maggior parte degli investimenti sono stati spostati dal 2023 e anni precedenti al 2024 2025 quindi adesso però adesso ci siamo nel 2024 quindi la vera sfida è fare tutti gli investimenti che sono stati raggruppati per il 2024 e 2025 vediamo vedremo adesso per adesso ancora non si hanno dati su questo su quello che succede nel 2024 l'altro pezzo del prodotto interno dell'economia italiana sono i consumi qui l'andamento è ancora più volati l'abbiamo avuto i primi tre trimestri del 2023 tutti positivi anche con numeri molto forti tipo più 0,7% nel terzo trimestre che è un dato cinese non un dato italiano i consumi italiani di soldo crescono a 0,1% a trimestre 0,7% a trimestre significa più del 3% in un anno un dato diciamo noi facevamo negli anni 80 e poi invece un crollo nel quarto trimestre appunto per rimettere in paro le cose i consumi sono crollati dell'1,4% nel quarto trimestre questo è un dato che è stato diffuso appena l'altro ieri sul quale appunto bisogna lavorare capire che cosa effettivamente è successo perché è assolutamente sorprendente che ci sia un calo che ci sia stato un calo così forte perché se guardate nel grafico la linea rossa che è uno degli indicatori dei consumi delle famiglie sono le vendite al dettaglio è la gran parte dei consumi mancano i consumi dei servizi però è la gran parte dei consumi di beni e qui vedete che probabilmente si era fermato quasi il calo che si è visto nel corso del 2022 2023 quindi sul finire del 2023 non ci si aspettava un crollo così importante è molto probabile che sia soprattutto un crollo di consumi dei servizi e quindi che invece era la parte dell'economia che stava tirando di più consumi di servizi in questa situazione diciamo strana post-covid significa soprattutto spese fuori casa e quindi quando mangio a casa sono consumi di beni quando vado al ristorante sono consumi di servizi siccome siamo stati diciamo chiusi in casa per circa due anni e siamo stati costretti a fare consumi di beni in passato adesso stavano rimbalzando fortemente i consumi di servizi quindi questo crollo di consumi di servizi nel quarto trimestre diciamo lascia particolarmente perplessi anche perché gli indicatori se vedete poi la linea la linea blu che è la fiducia delle famiglie erano particolarmente diciamo incoraggianti non siamo a livelli di boom economico però c'era una risalita che inizia proprio nel quarto trimestre e che è proseguita a gennaio febbraio quindi l'indicazione di sordo appunto si parlava prima di un indicatore dell'industria che i consumi elettrici non sono più un buon indicatore anche qui succedono cose probabilmente a quanto pare la fiducia delle famiglie non è più era il miglior indicatore dei consumi delle famiglie fino a prima del covid probabilmente ha smesso di funzionare così bene un'altra cosa importante è che sul reddito delle famiglie diciamo le famiglie hanno sempre per la questione chiusi dentro casa nel covid c'è stato un risparmio forzoso importante il tasso di risparmio come percentuale del reddito disponibile delle famiglie nel 2020 2021 ha raggiunto dei massimi storici diciamo completamente fuori da qualsiasi modello di economia di microeconomia cioè non era chiaramente un comportamento ottimale era un comportamento forzato non scelto e questa cosa ha portato ad accumulare una quantità di risparmio proprio uno stock di risparmio extra imponente le stime sono abbastanza varie ma si vada di decine e decine di miliardi questa cosa è un'eredità della crisi covid nella quale c'è stata la recessione perché i consumi appunto sono crollati e ce la siamo trovata come eredità positiva nello shock del 2022 e 2023 questo è uno dei fattori insieme al PNR che spiega perché non siamo andati in recessione nel 2022 e 2023 perché le famiglie hanno potuto attingere non tutte le famiglie purtroppo alcune famiglie ma in misura consistente hanno potuto attingere a quelle risorse che avevano messo da parte per forza non per scelta e hanno potuto finanziare i consumi anche quando i prezzi di energia si sono moltiplicati di 5-6 volte questo diciamo tra gli economisti c'è un po' di dibattito su questa cosa soprattutto sul fatto che questo fenomeno è avvenuto alcuni dicono che già si è esaurito perché quella montagna di accaddi risparmio potrebbe essere esaurita altri invece sono ancora un po' più ottimisti ritengono che questo fattore positivo ci potrà aiutare anche nel 2024 noi forse siamo più nel primo gruppo cioè di quelli un po' più pessimisti però magari ci sbagliamo questa slide qui vi fa vedere questa diciamo un'immagine sul boom dei servizi di cui parlavamo qui nel grafico vedete il turismo di stranieri in Italia il normal sarebbe quella linea tratteggiata che è il 2019 se guardiamo il 2018 è identica o il 2017 uguale erano dei fenomeni molto stabili poi improvvisamente col covid vedete che crolla la linea rossa l'abbiamo messa appositamente in rosso perché segnala allarme il turismo si era praticamente azzerato in tutti i mesi tranne che a luglio-agosto perché se vi ricordate a luglio-agosto al di là delle cose mediche era stato consentito di uscire di casa per questo motivo diciamo per non azzerare il turismo e poi invece questa riga piano piano che il covid finalmente ci ha lasciato più tranquilli è ripresa e non si è fermata il punto qual è che non si è fermata al recuperare la linea tratteggiata nera ma l'ha superata abbondantemente clamorosamente in modo del tutto inaspettato quindi un po' come se fosse qui probabilmente c'è della irrazionalità c'è un comportamento irrazionale non massimizzante dei consumatori cioè con tipo una molla sono mai talmente costretto a stare in casa e non potevo andare neanche nel borgo che stava a 50 metri a 50 chilometri e a questo punto vado faccio tutti i viaggi possibili immaginabili in tutte le parti del globo e per fortuna molta gente sceglie di venire in Italia il dato quindi del 2023 è di tanti miliardi superiori a quello diciamo normale qui vedete la stima banca d'Italia dice che siamo arrivati a sferare 52 miliardi di euro mentre prima ne facevamo 44 questi sono soldi stranieri che arrivano in Italia grazie al turismo turismo che è sostanzialmente il primo settore dell'economia italiana questa è sostanzialmente la verità si dice poco credo abbia superato vari settori come l'alimentare la meccanica quindi parliamo di un fenomeno grosso per fortuna non abbiamo solo turismo abbiamo tante industrie e tanti altri servizi però il turismo è stato sicuramente uno dei motori uno dei motivi per cui non siamo andati in recessione nel 2022 e 2023 che succede invece all'industria l'industria italiana che è ancora la seconda in Europa ancora il settore industriale più diversificato di Europa molto più della Germania però è in sofferenza la produzione industriale è quella linea rossa vedete che qui l'abbiamo messa a partire da gennaio 2021 ma se vedeste se vedesse il grafico dal 2019 quel picco che sta all'inizio del 2022 aveva recuperato i livelli pre-crisi quindi eravamo tutti tranquilli che l'industria italiana aveva recuperato lo shock post-covid e poi invece è crollata di nuovo di circa come si vede il grafico 7-8 punti percentuali che è in meno di due anni quindi diciamo si può parlare di un vero e proprio crollo con qualche oscillazione piano piano si accendevano delle speranze ma diciamo poi è andata giù sembra essersi dal punto di vista più congiunturale sembra essersi stabilizzata potrebbe ci sono dei segnali che dicono qui l'abbiamo messo con un punto interrogativo secondo me dovuto ancora che forse siamo alla fine del calo e che c'è qualcosa non vediamo una ripresa però forse una fine una fine del calo c'è ci sono vari indicatori uno l'abbiamo sviluppato noi ultimamente non so se l'avete sentito questo chiamato RTT l'acronimo a tre lettere sembra che funzioni bene sui giornali questo RTT che è sostanzialmente il fatturato delle imprese preso da fatturazione elettronica diciamo in due parole sintetizzato corretto per i prezzi corretto per la stagionalità e tante altre cose ci dice che che il fatturato dell'industria negli ultimi mesi negli ultimi mesi dell'anno 2023 poi abbiamo anche il dato di gennaio era in recupero quindi quando il fatturato comincia ad aumentare se questo indicatore ci dice le cose corrette a un certo punto la produzione dovrebbe andargli dietro perché in mezzo ci sono le scorte che non possono aumentare il fatturato senza produzione non è assolutamente possibile quindi prima o poi dovrebbe probabilmente ripartire ma poi dopo come vi dico tra un attimo il RTT ci ha detto che a gennaio è di nuovo è sceso il fatturato totale anche se continua aumentare quello dell'industria un altro indicatore che probabilmente conoscete questo PMI ci dice invece una cosa leggermente più pessimista questo è disegnato in modo che se arriva a 50 vuol dire che sei in stagnazione sta risalendo da sotto 50 sempre di più però è ancora sotto quindi questo quest'altro indicatore segnala che si sta attenuando il calo dell'industria che non è ancora finito un'altra indagine che fa sempre sto facendo un po' di pubblicità con la vostra un'altra indagine che abbiamo rilanciato proprio da pochissimo questa indagine che chiamiamo Rapida perché è un omaggio al vecchio presidente Cipolletta direttore del centro studio perché si faceva appunto in poche in poche in poche settimane rispetto invece ad altre indagini che prendono mesi quello è il motivo per cui si chiama Rapida fa vedere ed è fatto sulle grandi imprese industriali associate a Confindustria fa vedere che le imprese poi c'è una slide su questo si sono convinte diciamo la loro percezione che la produzione si stia stabilizzando quindi ci sono indicatori più o meno un po' più positivi del questo è il RTT che qui vedete nel grafico vedete quello che viene mostrato nel grafico sono le variazioni percentuali mese per mese di questo indicatore che diciamo è un indicatore di fatturato a prezzi costanti in volume quindi dovrebbe aiutare dovrebbe essere nella batteria di tutti gli indicatori economici che uno guarda uno in più uno strumento nella cassetta di attrezzi in più per aiutare a capire come va l'economia italiana il dato è un po' negativo a gennaio ma non particolarmente negativo era stato invece come vi dicevo abbastanza buono nei mesi precedenti in particolare per l'industria a gennaio è positivo e anche per quanto riguarda i servizi quindi c'è qualche indicazione di recupero poi ci sono anche indicazioni per le regioni o per le classi dimensionali ma non sono particolarmente utili nello scenario di cui stiamo parlando qui e questa è l'altra indagine questa famosa indagine rapida e qui vedete che la gran parte sono le ultime tre rilevazioni dicembre gennaio e febbraio la grandissima parte delle imprese più del 50% hanno una percezione che l'oro livello di produzione quindi diciamo l'idea che sappiano di cosa parlano e quindi questo dovrebbe essere un indicatore particolarmente affidabile dovrebbe essersi stabilizzato nel mese corrente e questa quota di imprese che dicono che il loro livello di produzione si è stabilizzato nel mese corrente piano piano sale quindi questo è il segnale che dovrebbe essere la fine della flessione dell'industria poi ci sono altre indicazioni diciamo ulteriori addizionali che fanno vedere che gli ordini e la domanda sono in in miglioramento quindi questo ci dice un po' che forse l'industria italiana e un altro commento che mi viene da fare adesso è che invece l'industria tedesca è in recessione diciamo pesantissima forse neanche troppo pubblicizzata e l'intera economia tedesca è andata in recessione perché Germania quando va in recessione l'industria diciamo ti puoi salvare per un trimestre ma nel trimestre successivo l'economia intera va in recessione quindi e noi che siamo agganciati come industria all'economia tedesca questa cosa ci preoccupava tanto invece sembrerebbe che l'industria italiana sia particolarmente resiliente perché diciamo ci sono varie spiegazioni che stiamo cercando una è che potrebbe essere gli imprenditori italiani sono particolarmente bravi sui mercati esteri hanno sofferto quindi in termini di export hanno sofferto molto nei primi tre trimestri del 2023 ma subito appena diciamo la situazione si è leggermente migliorata in termini di esogene il quarto trimestre è andato particolarmente bene su cui è stato messo a segno un più 1,8% qui nel di export nel grafico vedete che però c'è grandissima eterogenità tra i settori in orizzontale misurato appunto l'export in verticale la produzione industriale ci sono solo tre settori questi sono gli ateco a due digit quindi non in particolare dettaglio sono i circa poco più di 10 settori a due digit vedete che solamente macchinari impianti che è il settore più importante dell'industria italiana le apparecchiature elettriche e i mezzi di trasporto cari alla nostra vita sono i settori che stanno andando che sono nel quadrante buono cioè di aumento dell'export e di aumento della produzione altri settori vanno particolarmente male non a caso vi segnalo siamo parlando in tema di energia che i settori sostanzi che diciamo che sono noti per essere energivori sono nel quadrante brutto sono nel quadrante in basso a sinistra quindi che perdono sia in termini di produzione sia in termini di expo e questo può diciamo è un tentativo di risposta anche alla domanda della collega che diceva se ricordo bene come si spiega il calo oramai già due anni di calo del consumo di gas nell'industria secondo me si spiega sostanzialmente così si spiega male cioè che i settori energivori cioè quelli che usavano e usano ancora più gas all'interno dell'industria italiana stanno crollando cioè stanno diciamo secondo i propri i pessimisti cosmici sono a rischio estinzione però questo è un po' un'esagerazione però vedete che per esempio la metallurgia la carta stampa la gomma plastica registrano dei cali della produzione tra il meno 5 e il meno 10 all'anno tra il meno 5 e il meno 10 all'anno quindi se questa cosa continuasse chiaramente il rischio estinzione secondo me è eccessivo però un forte ridimensionamento senza e quindi questo potrebbe spiegare quindi poca efficienza energetica se questa lettura se questa lettura è vera probabilmente efficienza energetica c'è ma il grosso potrebbe essere invece una una cosa negativa cioè la riduzione proprio del consumo perché si riduce proprio il settore e poi non so se avete visto sui giornali questa è una cosa a cui teniamo molto anche che la si parla sempre di questo pazzo o di questo rebus del fatto che non si capisce perché l'occupazione continua a crescere e il PIL dicono i giornali invece diminuisce poi abbiamo visto invece che non è vero anzitutto quindi la prima cosa è che il PIL non è mai diminuito e continua a crescere per quanto lentamente l'occupazione che è qui e vedete indicata la linea rossa cresce diciamo quello che sorprende è che cresce in modo più costante ma se poi voi andate non ce l'abbiamo qui nel grafico ma se uno andasse a vedere come sono andati il PIL e l'occupazione dal 2019 quindi dal pre-covid quando tutto è iniziato fino a oggi l'occupazione sta addirittura un po' sotto al PIL quindi il PIL è addirittura aumentato di più dell'occupazione rispetto al pre-covid quindi non c'è nessuna stranezza è semplicemente negli ultimi dati quando si è creato soprattutto intorno al secondo o terzo trimestre quando sembrava che l'economia stesse rallentando particolarmente tanto poi in realtà l'Istat ci ha fatto vedere che non era neanche vero si era creata questa discrepanza se c'è una discrepanza è semplicemente perché l'occupazione reagisce in modo più ritardato rispetto all'attività economica e mi sembra anche abbastanza ovvio perché l'imprenditore magari sa se deve assumere o licenziare a seconda di quello che ha fatto il trimestre precedente come attività economica un punto importante quasi che si ricollega la questione dei consumi e il problema dei salari delle retribuzioni nominali che ci riguarda ovviamente tutti come famiglie quello che è successo è che la linea blu piena delle retribuzioni nominali ha continuato a crescere quindi le retribuzioni sono in crescita siccome però lo shock energetico ha determinato uno shock sui prezzi al consumo che sono la linea verde in alto che è quasi quella linea che quasi esce dal grafico quello è lo shock sui prezzi al consumo abbiamo un livello dei prezzi molto più alto ovviamente le retribuzioni al netto dei prezzi sono crollate diciamo di 7-8 punti percentuali nel corso del 2023 si sono questo crollo diciamo si è appiattito si sono stabilizzate le retribuzioni reali e l'attesa è che nel 2024 possano ripartire quando i prezzi probabilmente rimarranno fermi e le retribuzioni nominali continueranno a crescere quindi parlando di prezzi questo ci porta diciamo un'altra parte dell'economia la parte monetaria dell'economia come è andata l'inflazione e che cosa succederà ai tassi l'inflazione italiana ovviamente non ci facciamo mancare mai niente è stata quella che è cresciuta di più dopo lo shock energetico qui lo vedete l'Italia rispetto agli altri grandi paesi europei ma viceversa questo è anche un rimbalzo positivo per noi perché adesso l'inflazione italiana che era quella che era aumentata di più a livello proprio aritmetico non c'è niente di spiegazione economica a livello aritmetico adesso è quella che cresce di meno perché appunto prima era proprio un fatto algebrico del calcolo delle variazioni sui 12 mesi quando togli dal calcolo il picco la variazione a 12 mesi ti si abbassa di più e quindi che succede che dal punto di vista dell'Italia i tassi potrebbero già scendere perché l'inflazione italiana è già ampiamente sotto questa famosa soglia del 2% che guardano le banche centrali la banca centrale europea però deve guardare anche l'inflazione degli altri paesi che quindi fare questa media che vedete qui è la linea rossa tratteggiata ed è evidente che siccome l'inflazione è aggregata eurozona innanzitutto non sta sotto il 2% e poi ha smesso di scendere negli ultimi mesi quindi sta mostrando un po' di volatilità poco sotto il 3% allora è ovvio che la banca centrale europea stia ragionando ha sempre in mente da quello che si capisce il taglio dei tassi perché i tassi che sono alla linea rossa piena sono ai massimi non ai massimi storici ovviamente ma ai massimi degli ultimi decenni perché sono al 4,5 quello che si capisce guardando l'informazione che sta dentro i future sui tassi di mercato è che la banca centrale europea avrebbe tagliato a febbraio e sarebbe stata una cosa ottima per l'economia italiana per le imprese dei consumatori molto probabilmente taglierà a maggio taglierà di pochissimo 0,25 e poi piano piano e poi piano piano darà un segnale e poi piano piano diciamo la direzione sarà ricordiamoci che fino a pochi mesi fa si parlava ancora il dubbio era che continuassero che continuassero ad alzare i tassi e qui perché mettiamo anche la situazione americana perché purtroppo diciamo e questo dipende anche dalla globalizzazione dell'economia la BCE è diventata quella che gli onomisti chiamano follower cioè che segue le decisioni del leader e il leader ovviamente è la banca centrale americana il leader sui tassi di interesse li ha stabilizzati negli ultimi mesi non l'ha più alzati e quindi la BCE non l'ha più alzati l'avrebbe fatto se la Fed avesse alzato ancora quindi da questo punto di vista l'attesa è buona l'attesa è positiva perché i tassi scenderanno chiudo con questa diciamo non parlo del prezzo del petrolio perché Rita ha già detto tutto noi vedevamo però l'ha già spiegato lei quello che vedevamo qui era una diciamo un'altalenante risalita del prezzo del petrolio su livelli poi tutto sommato contenuti ma quello che volevo sottolineare è dal punto di vista del commercio ne avete anche già parlato in tanti prima la chiusura di Suez non solamente un numero il 90% degli scambi globali avviene via mare un numero che personalmente mi ha sorpreso quando l'abbiamo l'abbiamo trovato è il 12 tramite Suez per l'Italia le percentuali sono molto diverse 54 via male perché la Germania che è il primo partenario industriale sta a nord via terra quindi non commerciamo con la Germania via mare quindi per l'Italia solo 54% ma ben 40% di quel 54 è Suez quindi in realtà se moltiplicate le due quote mondo e Italia arrivate alla stessa percentuale cioè che Suez conta per un commercio di beni su 10 più o meno un 10% circa quindi questo che ha significato la chiusura di Suez il fatto come faceva vedere credo la collega le rotte commerciali sono cambiate si passa sotto il capo di buona speranza come vedete da quelle percentuali un meno forte un più forte su Suez e sul capo di buona speranza e soprattutto dal punto di vista dell'industria 170% i noni commerciali questo non deve impressionare molto perché i noni commerciali sono una variabile particolarmente volatile che un giorno sale del 50% e il giorno dopo scende del 30% quindi il più 170% potrebbe non essere diciamo potrebbe essere una variazione temporanea certo se invece rimanesse lì per vari mesi sarebbe un problema serio per i prezzi perché entrerebbe nei prezzi delle materie e poi sarebbe un problema potrebbe addirittura far rimandare ulteriormente il taglio dei tassi che dicevamo prima io penso di fermarmi qua forse ho già asforato grazie 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 a Torra Pacciolo a Confindustria grazie credo che fosse questo il modo giusto per chiudere abbiamo visto la situazione su diversi vettori energetici abbiamo chiuso col quadro economico macroeconomico dico solo che forse è una variabile che dovremmo cominciare a prendere in serie considerazione anche quello che sarà l'esito dell'elezione americana a fine anno che ovviamente avrà un impatto su tutti i temi che abbiamo toccato stamattina ma per questo ci rivediamo fra 12 mesi al prossimo convegno AIE e così potremo conventare grazie a tutti i relatori chiedo innanzitutto do il benvenuto intanto all'amministratore delegato di Terna l'ingegner Giuseppina di Foggia grazie 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 a tutti 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 siamo in due ma hanno dato tanti di quei compiti e quindi anch'io ho le mie note allora ben trovati come facciamo con la seconda molto importante diciamo la motivazione principale per il quale abbiamo organizzato questo convegno nel 2015 è stato introdotto memoria del fondatore Edgardo Curcio il premio energia sostenibile vi permetto di sottolineare la parola energia energia sostenibile all'interno dell'associazione economia dell'energia che è stata proprio fondata da Edgardo Curcio molti anni fa e questo è una cosa buona per chi come me fa economia da tanti anni e si occupa di energia da tanti anni perché ha dato un po' una casa agganciandosi quindi se chi come me fa economia e si occupa di energia è sempre allora gli economisti ti dicono non capisci niente perché l'energia è una roba di nicchia le altre robe importanti sono altre gli ingegneri ti dicono non capisci niente di come funziona l'energia quindi finalmente abbiamo avuto la nostra casa stiamo lì buoni buoni e cerchiamo di fare il nostro mestiere quindi grazie al buon Edgardo Curcio quindi da qualche anno abbiamo questo premio energia sostenibile che negli anni è stato assegnato da diversi personaggi dell'industria ma anche dell'agenzia internazionale dell'energia dell'industria non solo energetica ma anche l'industria pesante come abbiamo visto l'anno scorso e quest'anno scusate anche come come si qualifica questo premio perché di questo premio insomma dunque noi lo assegniamo l'associazione lo assegna una personalità o azienda impegnata nel campo energetico e attenzione che il campo energetico ormai è un campo molto allargato perché non c'è solo chi produce o trasporta energia ma sempre più chi la consuma abbiamo visto anche la relazione di une quindi tutto il mondo della mobilità o il mondo degli energivori o un'azienda impegnata nel campo energetico che abbia maggiormente contribuito alla comprensione alla diffusione dei concetti di energia sostenibile e a proposito di diffusione mi invito anche a guardare per chi non ancora l'avesse fatto il sito di Terna per vedere la ricchezza dei contenuti che potete trovare lo scopo del premio è di incoraggiare la conoscenza di tutte le forme di energia sostenibile per il nostro paese siamo un'associazione italiana tenendo conto della crescita economica di cui abbiamo parlato pochi minuti fa della necessità di sicurezza degli approvviginamenti che ormai è il tema quasi dominante insieme alla decarbonizzazione della difesa dell'ambiente della stabilità del clima la vera emergenza e in generale dell'innovazione di cui tanto abbiamo bisogno nei sistemi energetici a partire proprio dalle nostre reti di conoscere perché sono nostre e sono una ricchezza del paese quest'anno perciò il premio di energia è stato assegnato all'ingegner Giuseppina di Foggia amministratore delegato e direttore generale di Terna per le sfide e che sfide che è chiamata ad affrontare come responsabile del TSO al centro delle profonde trasformazioni usate imposte dalla transizione energetica e consentitemi di leggere brevemente una sintesi del 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 dell'amministratore delegato laureato in ingegneria elettronica con specializzazione in telecomunicazione alla Sapienza Università di Roma ha un master in professional project management conseguito la Stevens Institute of Technology negli USA e ha svolto corsi di specializzazione in general management presso la SDA Bocconi e un'altra università che non posso citare per motivi di contratto quindi solo Bocconi posso citare scusate cavaliere del lavoro della Repubblica nel 21 per il suo impegno in ambito tecnologia informazione e comunicazione nello stesso anno inserita nella rivista Forbes Italia tra le 100 personalità femminili che si sono contraddistinte per impegno tenace e competenza inoltre è stata premiata da Forbes ai CEO Italian Awards del 21 come miglior CEO dell'anno nella categoria TLC da maggio 23 come sapete tutti è amministratore delegato e direttore generale di Terna ma prima di allora dal 20 è stato amministratore delegato e vicepresidente di Nokia Italia che sono manifatture servizi apparati telecomunicazioni una trentennale esperienza maturata in diversi paesi la transizione ha sicuramente bisogno di questa esperienza interdisciplinare nei ruoli di ricerca e sviluppo e come abbiamo visto anche dalla lezione prima tanto abbiamo bisogno di maggiore innovazione maggiore ricerca e sviluppo per le enormi sfide che abbiamo di fronte a noi è stata presidente di CDA di GPA e componente del consiglio direttivo di Assolombarda siede nel consiglio di amministrazione della stessa università che non posso citare ancora una volta e da ottobre 23 nel vaso ribordo è solo 24 ore formazione da giugno a dicembre è stata very precedente del GO15 l'associazione mondiale dei cosiddetti very large power grid operators per la trasmissione energie elettrica ora io ho preparato una breve scheda anche su quello che fa Tern ma io ho il sospetto che tutti noi conosciamo bene il ruolo di Tern e come posso dire i risultati straordinari che ha raggiunto anche in base ai numeri che sono stati citati in precedente il numero di impianti che vanno collegati insomma quello che è stato fatto spesso nel dibattito della transizione energetica questo è un difetto tipico di noi economisti di concentrarsi perché insegniamo i costi ma tendiamo spesso a dimenticarci i benefici dei benefici intendo che popò di infrastrutture energetiche di cui ci siamo dotati che ci ha permesso di passare indenni più o meno indenni attraverso la pandemia e anche la crisi energetica rispetto a quello che sarebbe potuto succedere quindi quello che Terna fa quindi le reti gli accumuli le fonti rinnovabili ma io vorrei invece sottolineare gli aspetti di sostenibilità perché qui c'è un punto che c'è molto caro il fatto che ci sia un'azienda che produce o comunque utilizza elettricità quindi per definizione pulita sostenibile utilizzi fonti rinnovabili non è più sufficiente ok per poter affinché venga definita sostenibile ecco perché sono particolarmente contento che al premio sia associato anche il fatto come posso dire la descrizione di quello che Terna anche sta facendo in termini di sostenibilità al di là del fatto che è il trasportatore il nostro trasportatore di elettricità e che collega tutti gli impianti Terna si conferma una volta al vertice della sostenibilità mondiale per il quindicesimo anno consecutivo il gestore della rete è incluso nel Dow Jones Sustainability Indices quindi questo è un gran risultato di S&P Global che selezionano l'eccellenza in campo ESG Environmental Social and Governance Terna è inserita nuovamente negli indici ESG Euronex Vigeo e Futsi e Futsi for Good inoltre la società di rete in Sustainability che chi è del settore conosce particolarmente bene ha confermato il gruppo Terna la migliore valutazione con Negligible Risk la migliore possibile la migliore possibile che posiziona Terna ai vertici nel settore globale delle utility elettriche tra le aree di eccellenza sottolineate di Sustainability si citano per esempio la policy e i programmi aziendali per la tutela dell'ambiente e della biodiversità la gestione dei rischi legati al clima che sono il peggioramento il programma per la cyber security la gestione della salute e la sicurezza sul posto di lavoro i piani per la riduzione dell'impronta carbonica e la completezza della reportistica aziendale riguardo le politiche di contrasto alla discriminazione per tutti questi motivi siamo particolarmente contenti e onorati di assegnare quest'anno il premio energia sostenibile a E. Edgar Curcio all'ingegnere Giuseppina di Foggia di Terna dobbiamo fare la foto in mente si mi hanno detto che dobbiamo fare qui che non so un paio di foto e poi prendiamo la foto sopra da questa grazie 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 io mi aiuterò con delle note anche per essere un po' più concisa e soprattutto perché poi fra qualche giorno presenteremo il piano industriale quindi presa dalle parole che mi potrebbero dare il gancio per n non voglio non posso più che non voglio anticipare molto innanzitutto ringrazio chiaramente il presidente Matteo di Castelnuovo per questo riconoscimento che accetto con molto piacere pensando appunto non tanto all'anno passato quanto a quello in corso e al prossimo futuro naturalmente lo condivido perché ho in mente l'impegno profuso dalle quasi 6.000 persone di Terna che ogni giorno nel nostro paese e all'estero lavorano tenendo bene a mente la sostenibilità intesa nella sua accezione più ampia di attenzione all'ambiente e alla società come appunto è stato detto Terna è il gestore della rete di trasmissione di energia elettrica italiana siamo in mezzo a chi produce e a chi distribuisce quindi per semplificare nel presente garantendo al paese un sistema elettrico efficiente sicuro e accessibile a tutti questo è fondamentale contemporaneamente nel futuro progettando reti pronte a trasmettere le fonti rinnovabili e contribuendo così alla sostenibilità ambientale la sostenibilità come si diceva prima nel nostro DNA rappresenta un elemento costitutivo del lavoro che svolgiamo e una responsabilità che sentiamo forte la misuriamo con un approccio sistematico vincolato ad obiettivi e questo sarà chiaro nel piano anche adottando indicatori quantitativi questo è fondamentale e tempistiche definite perché vogliamo che la transizione sia anche equa quella che in un termine definiamo come just transition era stato prima menzionato anche il tema dell'innovazione della digitalizzazione infatti e poi mi fermo qui sul piano nel piano industriale parleremo di una twin transition perché io sono fortemente convinta che non possa esserci una transizione energetica se le nostre infrastrutture non evolvono e non c'è quindi una evoluzione digitale ma allo stesso tempo ci dobbiamo assicurare che la transizione sia giusta sia equa e per questo parleremo di una twin transition for a just transition e poi mi fermo qui perché altrimenti vado oltre quello che devo io vengo da un settore come è stato ricordato che è quello delle telecomunicazioni in cui uno dei problemi più annosi e non ancora risolto purtroppo che ho spesso discusso è quello del digital divide ce ne siamo ricordati anche e soprattutto lo abbiamo notato durante il periodo del covid ovvero delle esclusioni di interi territori e fasce della popolazione dall'accesso alla larga banda che comporta anche e non solo aggiungerei l'impossibilità a connettersi alla rete esclusione che significa in queste aree anche e non solo lo ripeto l'impossibilità di aprire un'impresa perché nessuna azienda potrebbe sopravvivere ed essere competitiva senza connettersi alla rete con la necessaria qualità e quando ero in un'azienda appunto che si occupava di costruire le reti per il nostro paese per tutti gli operatori per tutte le utilisi io sentivo molto e sottolineavo questo problema ebbene adesso che gestisco un'azienda così cruciale per il trasporto dell'energia penso che nel mondo dell'energia non è proprio possibile immaginare una forma qualunque di esclusione non è compatibile proprio con la vita l'energia deve essere disponibile per tutti in ogni momento ecco perché ogni intervento di Terna deve garantire che i costi delle opere abbiano un impatto sul sistema paese sostenibile per l'intera popolazione ecco cosa intendo con equità e sostenibilità ecco cosa voglio dire con il termine just transition che sarà sottolineato anche di fronte agli analisti mi scuso per l'acqua ma voglio aggiungere qualcosa che non era previsto dicessi giusto per darvi un'idea perché quello che facciamo ha anche se minimo un impatto sulla bolletta degli italiani tutti dicono sì ma queste opere queste opere però noi possiamo intervenire con delle ottimizzazioni anche se il nostro lavoro le nostre infrastrutture pesano sulle bollette per una percentuale che va dal 5 al 10% e negli ultimi tempi abbiamo apportato anche e non solo con l'uso della digitalizzazione e delle ottimizzazioni nei servizi di dispacciamento che hanno portato l'impatto sulla bolletta a minimizzare diciamo il nostro costo e ve lo dico con i numeri mediamente fino al 2022 i nostri lavori mettiamoli così costavano dagli 8 ai 10 euro al megawattora significa vedere una curva che faceva così con le ascisse sulle ascisse il tempo grazie a queste ottimizzazioni nel 2023 siamo andati c'è stato un picco in basso quindi il nostro peso è stato di 1,5 euro al megawattora e non ci siamo fermati a inizio anno il primo trimestre anno corrente si misura 0,75 euro al megawattora per darvi un altro numero questo è significato nel 2023 con quell'uno circa 1,5 euro al megawattora aver fatto risparmiare 2 miliardi di euro agli italiani sulle bollette quindi questo secondo me con i numeri è quello che possiamo fare per rendere sostenibile anche il nostro investimento e questo lo facciamo anche e non solo grazie all'utilizzo della digitalizzazione non voglio entrare ora l'ho detto che dovevo attenermi alle carte altrimenti vado oltre i tempi e comunque negli ultimi mesi Tern ha raggiunto diversi traguardi e vorrei citare appunto uno dei più importanti perché ha un peso su quello che realizzeremo per la transizione energetica quindi avrà impatto sulla sostenibilità il record di autorizzazioni nel 2023 cioè oltre 3 miliardi di euro significa il 20% di più di opere che sono state autorizzate rispetto all'anno precedente significa 23 opere su tutto il territorio nazionale pronte ad essere realizzate come il Ternian Link un'opera di 3,7 miliardi di investimento per realizzare un collegamento che consentirà di unire Sicilia Sardegna e Campania tra l'altro un'opera che utilizzerà in parte anche il PNRR e per quanto riguarda il futuro invece come dicevo presenteremo il piano a breve e come dicevo non potrò anticipare molto e dirò e ho detto che sarà basato sulla twin transition appunto non si potrà avere una transizione elettrica questo ne sono fermamente convinto senza un'evoluzione digitale e la sostenibilità manterrà un ruolo di grande rilievo e questo vuol dire oltre a investimenti sulla rete anche un significativo cambio di cultura e di approccio che accompagnerà diciamo l'evoluzione digitale e non solo perché molte persone dovranno essere pronte a cambiare lavoro a fare lo stesso lavoro in maniera diversa perché dei lavori non ci saranno più altri ce ne saranno di nuovi e alcuni evolveranno e niente concludo e sono state già citate molte certificazioni quindi salto questo tutti questi passaggi e concludo dicendo che per tutti i motivi citati sono particolarmente grata per l'assegnazione del premio energia sostenibile 2024 che è un riconoscimento del contributo di Terna al paese e che naturalmente lo ripeto condivido con i 6.000 colleghi di Terna grazie ancora a tutti grazie presidente grazie ancora solo una breve nota di se per quanto apprezzato il riferimento al cambio di cultura e di approccio dal momento che per mestiere faccio quello di insegnare alle nuove generazioni università questo è un punto fondamentale che loro capiscono quello che è il cambiamento in atto rispetto che possono essere i paradimi con i quali sono cresciuti quindi estremamente importante con il denominatore comune della sostenibilità grazie veramente grazie a voi grazie abbiamo un coffee break di 30 minuti e poi ritroviamo alle mezzogiorno con la tavola ringrazio l'ingegner Bortoni che coordina la tavola grazie a tutti le forti saluti di Ernesto Ciorra che è un amico un buon caro amico si 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 tra l'altro lui conosce bene anche benissimo l'azienda dove stavo grazie a tutti